Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati su questi schermi e benvenuti nella seconda parte della versione di Johnny Depp intanto mi fa piacere che siate sopravvissuti alla prima, lo considero un traguardo, vi auguro di farcela anche oggi oggi ragazzi entriamo nel cuore della verità di Johnny Depp perché oggi Johnny prenderà uno per uno tutti gli episodi di violenza domestica di cui lo ha accusato Amber nel 2016 e dal 2016 in poi e racconterà finalmente per la prima volta in mondo visione la propria versione dei fatti per la prima volta Johnny Depp farà suonare la propria campana davanti al mondo intero e sarà un suono grave funereo ragazzi cioè è la marcia funebre che accompagna la reputazione di Amber Heard nello stesso scimitero di quella di Taylor Swift con tutto il rispetto per Taylor Swift che Povilin è stata sepolta ingiustamente non mi perdo in preamboli ragazzi visto che questa è la parte 2 per l'appunto ovviamente anche oggi preparate le emoji del pomodoro e ogni qualvolta l'indignazione vi farà venire voglia di dire le parolacce lasciatene uno nei commenti oggi prevedo che ci saranno più pomodori che secondi di video detto questo però ragazzi andiamo subito al dunque fatevi una tisana rilassante perché ne avrete bisogno e a questo punto ragazzi non mi resta che dirvi bentornati nel riassuntone di Johnny Depp contro Amber Heard giornata numero 6 anche oggi Johnny indossa una cravatta con i dirigori così bella e particolare che mi fa venire voglia di passare al team Amber la cravatta di Johnny è la mia prima indignazione della giornata la seconda invece è che Johnny venga interrogato da un'avvocata che non so bene da dove sia uscita e soprattutto perché si chiama Jessica Myers e con tutto il rispetto perché sarà sicuramente un'ottima avvocata tuttavia io per questa giornata volevo Camille quindi io mi gioco il primo pomodoro per la cravatta e il secondo per l'assenza per me ingiustificabile di Camille nello scorso episodio abbiamo sorvolato dall'alto le problematiche della relazione tra Johnny e Amber ovviamente dalla prospettiva di Johnny adesso ragazzi entriamo proprio nella storyline e ripercorriamo una per una tutte le varie etappe di questa orribile storia di violenza domestica tutto comincia quando a un anno dall'inizio della relazione la vera Amber si rivela abbandonando la maschera di fotocopia di Johnny Depp che a detta dell'attore era stata tutta una tattica per conquistarlo perché poi appunto dopo un anno Amber non era più quella persona anzi era l'esatto opposto cioè all'inizio era tutta dolce poi dopo un anno è andata male all'inizio era divertente più avanti il suo umorismo è diventato bullismo nei confronti di Johnny Depp all'inizio era una fan di Johnny Depp più avanti gli ha addirittura rivelato di non avere mai visto un suo film all'inizio si è mostrata una persona colta oggi invece Amber è colta sì ma in flagrante prima ascoltava l'old blues come Johnny ora non lo so mi aspetto che ascolti Gianni Celesto ma ragazzi prima era tanto simile a Johnny un anno dopo non poteva essere una persona più diversa da lui è come se ciò non bastasse Amber ha anche iniziato a emanare odio nei suoi confronti che manco se Johnny le avesse investito il cane capito è come se Johnny le desse fastidio questo stesso cambiamento ragazzi è già di per sé non dico un abuso però si lo dico Amber ha letteralmente adescato Johnny con l'inganno e questa cosa la può fare solo una persona molto manipolatrice che studia la preda decide di ottenere la preda e adatta il proprio comportamento la propria personalità sulla base del suo obiettivo perché lo sa che per come veramente non riuscirebbe mai a conquistarla e quindi si finge tutta altra persona cioè non se lo pone il problema etico di truffare l'altro ciò che conta è conquistarlo ciò che conta è agguantare la preda e parlo di preda perché in realtà ragazzi questo è un comportamento che è molto frequente tra gli animali appunto l'imitazione della preda per raggirarla è agguantarla con l'inganno per esempio esiste vi voglio parlare di questa cosa così tanto per fare una metafora per esempio ragazzi esiste una specie di lucciola che è secondo me molto simile all'amber che descrive Johnny è una lucciola violenta cioè si mangia i maschi è cattiva e si chiama lucciola futuris mentre c'è un'altra specie sempre di lucciola che si chiama fotinus è che è un poco più tranquilla una lucciola pacifica ora che cosa fa la lucciola cattiva osserva il modo in cui le femmine di lucciola buona corteggiano i loro maschi ovvero illuminandosi in modo intermittente memorizzano questo codice cioè proprio la sequenza di intermittenza che emettono per conquistare il maschio e così non appena vedono un maschio di fotinus le lucciole cattive si mettono a lampeggiare come luci di natale ingannando il fotinus e convincendolo del fatto che siano femmine tranquille pacifiche che vogliono mettere su famiglia non appena il maschio ci casca perché ci casca se lo mangiano in un sol boccone ditemi voi se Amber Heard non è una lucciola futuris in molti ragazzi si chiedono ma visto che Amber non ha mangiato Johnny lui perché non l'ha lasciata subito quando le è cambiata così drasticamente addirittura ho letto qualche commento sotto lo scorso video che diceva Mima l'ha addirittura sposata cioè perché non ce n'erano più donne sulla faccia della terra che doveva maritarsi proprio quella che lo menava allora ragazzi è complicato il meccanismo è quello delle droghe e lo stesso Johnny ha pronunciato in tribunale la scorsa volta ne abbiamo parlato la scorsa volta una frase secondo me è emblematica ve la rileggo il motivo per cui i tossici indipendenti in genere finiscono in overgose è perché stanno cercando il primo sballo e non ottieni di nuovo il tuo primo sballo quindi cosa fai? alzi la posta e ne prendi di più e di più ecco ragazzi in una relazione tossica il meccanismo è preciso perché ragazzi allora Amber ha adescato Johnny anche attraverso un forte love bombing cioè lo ha bombardato di apprezzamenti, di complimenti, di attenzioni vi ricordate che gli toglieva pure le scarpe ogni volta che lui tornava a casa? ecco pensate essere bombardati da un amore incommensurabile che non avete mai provato prima perché essendo che si tratta di qualcosa di finto di artefatto è comunque qualcosa di molto più amplificato rispetto a un sentimento vero che invece emerge in modo spontaneo a piccole dosi ecco pensate essere bombardati da tutta questa magia incredibile pensare di avere trovato la persona più perfetta dell'universo e poi all'improvviso un giorno si spegne tutto il partner diventa indifferente nei vostri confronti e talvolta addirittura sembra proprio disprezzarvi non lo so come se faceste puzza e quando gli chiedete spiegazioni il partner vi dice che in qualche modo la colpa del suo cambiamento è vostra qui scatta la dipendenza perché tu vuoi provare di nuovo il primo sballo cioè ti rendi conto che magari non è vero che fai così schifo come dice il partner però stavi così bene prima all'inizio che saresti disposto a tutto pur di ritornare alla situazione iniziale non lo vuoi accettare il fatto che quella situazione magica non tornerà più e quindi sei disposto pure ad accollarti tutte le colpe a metterti subito al lavoro per cambiare per diventare come ti sta chiedendo di diventare il partner in modo da ripristinare appunto la situazione iniziale il punto è che il primo sballo come dice Johnny non torna più ragazzi cioè tutti i tuoi sforzi saranno inutili perché in questo tipo di relazioni il partner lo troverà sempre un motivo per giustificare il disprezzo per giustificare l'indifferenza per giustificare persino la violenza verso la vittima cioè tu risolvi un problema ma poi te ne restano mille e quindi il partner spinge la vittima sempre un po' più in là lo spinge ad alzare la posta sempre di più un giorno si lamenta perché non gli dai abbastanza attenzione un altro giorno ti si lamenta per un altro motivo poi ne troverà un altro e così via fino alla distruzione totale dei coglioni Johnny quindi ragazzi non solo non ha lasciato Amber dopo che questa è cambiata diventando una megera con lui ma si sarà anche impegnato per riavere l'Amber di prima e persino il fatto di sposarla è un modo in cui lui ha tentato disperatamente di recuperare la situazione iniziale tanto che nella registrazione se vi ricordate ha detto io pensavo che il matrimonio avrebbe scoraggiato la violenza fisica è veramente molto più facile di quanto non possa sembrare cascare in una relazione tossica soprattutto se il partner ti fa stare bene per un tempo abbastanza lungo cioè in questo caso Amber si è cioè ha recitato per un anno è un tempo durante il quale tu comunque investi investi emotivamente nel caso di Johnny investi anche durante i soldi ma soprattutto ragazzi è un grande investimento emotivo quindi non è che poi dopo un anno al primo segnale che le cose non vadano non vanno più bene tu prendi e mandi tutto all'aria è chiaro che fai dei tentativi oltretutto pensate che Johnny in quanto tossicolistente è un soggetto incline alle dipendenze quindi figuriamoci se non ci cascava con tutte le scarpe in questo trappolone degno di una lucciola futuris ma quali sono questi liti tra Johnny e Amber ragazzi allora seguiamo l'ordine scelto da Amber la prima accusa di Amber cioè la prima volta che secondo Amber Johnny l'avrebbe picchiata risale niente meno che al marzo 2013 è il marzo 2013 quando Johnny Depp sta girando un documentario su Kit Richards è mattina quando Amber ispirata dalla composizione che ha davanti decide di scattare una foto al tavolo vi lascio ammirare questa natura morta morta di overdose sul tavolo abbiamo tre strisce pedonali un bicchiere della infinitum mini hill la casa di produzione che sta fondando Johnny Depp e due bicchieri di quello che viene chiamato whisky in tribunale ma a me ragazzi sarò ignorante mi pare birra la birra dopo che è finita la schiuma è così comunque non ci perdiamo nei particolari dell'opera d'arte nato marcio chiede a Johnny se fosse sua abitudine fare colazione con whisky al che Johnny gli risponde perché non è sempre l'ora dell'happy hour in inglese fa ridere in italiano in inglese ragazzi fa ridere talmente tanto che ride persino nato marcio a questo punto sono già 160 giorni che Johnny è completamente sobrio perché se vi ricordate durante il periodo della sua rottura con Vanessa Paradis lui aveva cominciato a bere alcolici però insomma dopo che si è avvicinato ad Amber da quello che ho capito lui per lo più si è allontanato dall'alcol e appunto rimane sobrio durante il 2013 per un periodo di 160 giorni che è tanto rimanere sobrio per 160 giorni quindi ragazzi durante questa giornata del marzo 2013 per festeggiare questo traguardo giustamente beve a merda e pippa pure ora secondo la versione di Amber ragazzi proprio in questa occasione chiacchierando a un certo punto lei si sarebbe messa a ridere per un tatuaggio di Johnny ovvero questo qui questo tatuaggio una volta diceva Winona Forever perché Johnny lo ha fatto al tempo in cui stava con Winona Ryder solo che poi i due si sono lasciati quindi Johnny lo ha trasformato in Winona Forever insomma Amber sentendo questa storia perché Johnny appunto quel giorno si è messo a raccontarle questa storia a detta sua si sarebbe appunto messa a ridere e Johnny per tutta risposta l'avrebbe presa a schiaffi in faccia lasciandole questo livido non fate domande a furia di schiaffoni Amber addirittura sarebbe caduta per terra sul tappeto sudicio di Johnny è molto strano che in nato marcio dimentichi di mostrare alcune prove interessanti dell'episodio per esempio il fatto che in questa stessa giornata ci fosse quest'uomo per terra Johnny come potete vedere qui sta dormendo con la testa dentro un mobile considerata la posizione non è svenuto cioè ci si è sdraiato di proposito non so se sia un punto a suo favore o sfavore in ogni caso non si può crollare sul pavimento con la testa inserita dentro un mobile perché non è fisicamente possibile quindi ragazzi che Johnny quel giorno fosse sballato è sicuramente molto vero però l'unico a essere sdraiato su un tappeto qua è proprio lui e questo tappeto non è neanche così sudicio tutto sommato quindi spezzerei una lancia in favore dell'igiene di Johnny Depp e soprattutto del fatto che Johnny in queste condizioni difficilmente penso che avrebbe potuto picchiare qualcuno soprattutto con tanta forza da farlo cadere con una boffa per terra infatti ragazzi questa cosa che lui abbia preso Amber a schiaffi per una battuta sul tatuaggio non sarebbe mai successa questo secondo Johnny sarebbe un falso aneddoto basato su una mezza verità cioè il fatto che ad Amber stessero sul culo alcuni suoi tatuaggi e spesso sollevava questioni per i suoi tatuaggi però a Johnny non gliene fregava niente sostanzialmente cioè lui dice io non mi sono mai arrabbiato per questa cosa il mio corpo è un diario io ci piglio appunti non ha senso che una persona cambi ciò che c'è scritto sul proprio diario perché glielo chiede qualcun altro e quindi fondamentalmente la lasciava sbattere a lui le sue lamentele da un orecchio entravano e dall'altro uscivano e tanto per chiudere il cerchio ragazzi finita la relazione Johnny modifica questo tatuaggio che aveva dedicato ad Amber Heard vi ricordate che la chiamava Slim perché quando i due si sono incontrati sulle set di The Room Diary lui le ha consigliato di vedere il film Acque del Sud in cui i protagonisti si chiamavano a vicenda Slim e Steve ecco dopo il divorzio dopo le accuse di violenza domestica Johnny trasforma la scritta Slim che si era tatuato per lei in scum cioè putt***o più avanti però modifica nuovamente il tatuaggio in scam cioè truffa sempre molto significativo ma più politicamente corretto in tutto ciò però ragazzi vi devo dire che è quello che mi fa dubitare della versione di Amber più di ogni altra cosa in questo caso è il fatto che lei ridesse spesso di Johnny in modo molto cattivo e ciò come se non temesse di essere presa a schiaffi per questo motivo come penso accadrebbe scusate a una persona che ha subito gravi aggressioni da parte del partner per aver riso innocentemente di lui infatti ragazzi Johnny racconta che Amber fosse una bulla nei suoi confronti e che usasse contro di lui un sarcasmo molto umiliante ed esiste c'è anche un audio in cui Amber durante una lite effettivamente ride di Johnny in una maniera disturbante cioè sembra non lo so la strega dell'ovest e Johnny le dice indovinate cosa le dice che le ha chiamato un Uber così che lei se ne possa immediatamente andare da lì che poi Johnny che chiama l'Uber ragazzi mi spacca della serie non ti meriti manco di andartene con l'autista e se continui puoi andarti a cercare la metro al che ragazzi Amber sempre ridendo di Johnny gli risponde ma perché che c'è oggi non ce l'hai un posto in cui puoi scappare una delle tue 15 case vi faccio sentire questa parte della registrazione perché anche in questo caso una cosa è raccontare un'altra è sentire con le proprie orecchie il tono con cui Amber deride Johnny prima di far partire l'audio un'informazione preliminare che secondo me è importante la discussione riguardava questioni di gelosia cioè Johnny accusava Amber sostanzialmente di avergli fatto qualcosa non lo so di avergli messo qualche paio di corna forse e questo oppure era semplicemente geloso di qualche scena di film infatti scita London Fields che è un film in cui insomma Amber non era particolarmente vestita e neanche particolarmente sola quando non era particolarmente vestita insomma poi ne parliamo più avanti come on lei what else what else other things do you want to add or do you like your life because you want oh no I want to know I want to know I'm kind of waiting you go get it wait if you go other place you're running your 15 other house you have to go run come on go be a real married man go deal with your shit the way that a man does go run to the next house every man does go run away I don't talk but you're a fucking ridiculous man it's hard you're a fucking clown it's hard screwing everybody else over you're right I tried I tried to you're the most spoiled fucking brat you've done everybody out here almost full of you're right you're right I'm sorry you're right you gotta figure it out figure out what you have to offer as opposed to going out and getting your kids out you're right that's right yeah okay let's do this you're right you're right don't laugh no I'm not laughing no matter of fact laughing I'm not laughing I'm not I'm serious I'm sure you can find another thing I know I know I'm stripping well there's always that you can write you can write a book you can write a book I know you can write a book oh you can write a book oh Chinese I'm in the A3 book hey I don't know hey I don't know I have a good idea I'll be somewhere in your journal quindi ragazzi punto primo abbiamo l'ennesima conferma che Johnny scappasse quando Amber si comportava in questo modo e non che la picchiasse al punto che lei usa questa cosa cioè gli rinfaccia questa cosa per prenderlo in giro che è quello che fanno i bulli no prendono un tuo comportamento ricorrente una tua oppure una tua caratteristica la svuotano la riempono di ridicolo e poi la usano appunto per prenderti in giro per bullizzarti per mortificarti punto secondo abbiamo la conferma che Amber sia una super cattiva proprio di quelle della Disney mi sento bullizzata persino io l'anno seguente nel maggio 2014 Johnny Depp deve girare il film Black Mass a Boston e Amber si reca a Boston insieme a lui durante questo periodo a giudicare dalle foto scattate dai paparazzi sul set di Black Mass i due sembrano parecchio affiatati non fanno altro che limonare sul set cioè sembra che la pelata di Johnny eserciti su Amber un fascino irresistibile è come darle torto tuttavia durante le riprese di Black Mass Johnny è sballato come un figlio di puttana ci tengo a dire che queste non siano parole mie ma sue infatti ragazzi quando poi l'anno seguente Black Mass è uscito Erin l'infermiera personale di Amber ha scritto a Johnny un messaggio dicendogli che stava guardando sto film addirittura per la terza volta e Johnny senza un motivo preciso le ha risposto ero sballato come un figlio di puttana quando ho girato questo film vabbè ovviamente ragazzi che ve lo dico a fare a tirare fuori questi messaggi è stato l'avvocato di Amber il nostro nato marcio laureato in giurisprudenza e specializzato in prove di cui alla giuria non frega una bene amata minchia sempre durante le riprese di Black Mass una sera dopo aver lavorato al film per 17 ore di fila Johnny esce con Amber e insieme probabilmente pure con altra gente vanno a mangiare un gelato Johnny stanco e stressato mentre va a mangiare questo gelato si cala delle pillole di roxycodone dalle quali ormai è dipendente talmente dipendente che le usa come antistress infatti questi oppiace e a detta di Johnny lo rilassavano tantissimo ma talmente tanto che gli veniva l'abbiocco e infatti fa una gaffe durante la serata cioè praticamente Amber gli chiede di tenerle il gelato e lui si addormenta col gelato in mano perché racconto questo aneddoto ragazzi perché nato marcio durante il controinterrogatorio tira fuori questa foto incriminante Johnny Depp che dorme col gelato sciolto addosso apparentemente nato marcio è convinto che questa sia una prova in realtà l'unica cosa che prova questa foto è che Johnny a un certo punto della propria vita abbia dormito cioè è come se a un certo punto nato marcio abbia detto vabbè gente non possiamo vincere la causa perlomeno facciamo ridere ovviamente si scherza ragazzi però in realtà il motivo per cui nato marcio presenta questa prova in tribunale c'è e come anzi ce ne sono due di motivi il primo motivo è che probabilmente vuole insinuare che Johnny fosse sballato durante le riprese di un film ovvero black mass ma talmente sballato da arrivare a dormire con una cosa fredda che gli colava addosso e quindi ragazzi questo aiuta la narrativa in base alla quale Johnny si sia rovinato la carriera da solo presentandosi tutto consumato durante le riprese dei film e quindi appunto facendosi un po' schifare dai produttori e dei registi in questo caso la colpa della sua rovina lavorativa non ricadrebbe su Amber che lo ha diffamato con l'articolo del Washington Post insomma con le sue false accuse di violenza domestica ma sulla propria dipendenza e sul proprio comportamento irresponsabile per l'appunto il secondo motivo per cui nato marcio secondo me presenta questa prova questa foto alla giuria è perché vuole manipolarla infatti questa foto trasmette sporcizia sudiciume e mancanza di responsabilità e quindi secondo me l'avvocato vuole giocare sullo stereotipo del drogato alcolizzato che torna a casa tutto puzzolente di vino e picchia la moglie peccato che se la giuria invece di affidarsi allo stereotipo deciderà di accendere il cervello si renderà subito conto del fatto che questa foto dica l'esatto contrario cioè che quando johnny si sballava gli si abbassasse la pressione cioè gli veniva sonno e quindi risulta ancora più improbabile che avesse le forze necessarie per prendere amber e sbatterla in giro per casa come una mazza da baseball come racconta lei comunque ragazzi terminate le riprese di black mass la sera stessa della fine delle riprese amber e johnny litigano perché litigano perché amber deve girare una scena con james franco per il film di adderall diaris una scena molto come dire particolare cioè appassionata come i conigli e johnny non vuole anche perché sospetta che ci sia qualcosa di troppo tenero tra amber e james franco sospetta che i due abbiano una relazione spoiler aveva ragione ma secondo amber ragazzi johnny si sta comportando in questo modo e sta facendo il geloso per boicottarla perché non vuole che lei faccia successo non si sente supportata così gira la frittata e il giorno dopo si sveglia lei sul piede di guerra ce l'ha con johnny e continua a istigarlo andando dice johnny alla ricerca attiva di una lite l'aereo per tornare a los angeles intanto li aspetta è per sopportare i soprusi e le frecciatine di amber e immagino anche le sue risatine a questo punto johnny manda giù due pillole di roxycodone grazie a queste pillole lui sale sull'aereo fresco come una rosa secondo la versione di amber sul volo da boston a los angeles johnny ubriaco fradicio l'avrebbe presa a calci e poi sarebbe svenuto in bagno invece johnny dice che non è vero niente e che semplicemente amber sul volo glielamenasse tutto il tempo con frecciatine continue dice che lo punzecchiava emotivamente e fisicamente anche e racconta che lui non abbia reagito neanche per sbaglio perché lo sapeva lo sapeva benissimo che amber non aspettava altro che lui facesse o dicesse tanto per scatenare l'inferno quindi johnny per tutto il volo rimane muto impassibile zitto se ne resta al proprio posto a disegnare sul suo tacquino come fa sempre e si accolla gli insulti di amber in modo passivo durante questa testimonianza johnny si scorda di raccontare un aneddoto secondo me importantissimo per supportare la sua versione di cui aveva parlato precedentemente al processo contro il desanne cioè il fatto che a un certo punto durante il volo amber si sia alzata in piedi e che lui abbia allungato una gamba così per toccarle il sedere tipo per buttarla in cacciara per dire ad amber dai non fare così amber nel frattempo si è girata si è accorta del gesto di johnny e si è indignata tantissimo ora io non so perché johnny non abbia raccontato questa parte io ripeto penso che se la sia proprio scordata perché secondo me cioè è fondamentale perché amber potrebbe avere amplificato la narrazione di questo gesto di johnny che ha allungato il piede cercando di toccarle il sedere raccontando che johnny l'abbia proprio presa a calci comunque insomma ragazzi sta di fatto che johnny a un certo punto stanco delle continue molestie di amber prende un cuscino e se ne va indovinate dove in bagno nel bagno dell'aereo entra in bagno si chiude si stende per terra e buonanotte ai sognatori si addormenta e dorme per tutto il resto del volo come vi dicevo però ragazzi secondo amber johnny non stava dormendo era svenuto e per provarlo presenta come prova la registrazione dei suoi geniti attenzione ragazzi perché in tribunale johnny afferma che questa registrazione non sia stata fatta durante il volo boss nel los angeles del 2014 ma in qualche altra occasione non può sapere quale non sa quale quindi johnny domanda a nato marcio se ci sia una data di creazione per diciamo identificare questa registrazione ma a quanto pare in effetti no comunque che succede a questo punto l'aereo a terra a los angeles è tornati a los angeles amber è incavolata nera quindi decide di andarsene in hotel e se ne va nello specifico allo chateau marmon è il giorno in cui amber di domenica chiama la propria assistente kate per chiederle di portarle il bikini vi ricordate la testimonianza di kate benissimo la versione di johnny filerebbe del tutto liscia se solo il 30 maggio 2014 non avesse scritto un messaggio all'attore paul bettany facendo riferimento proprio al volo da boston a los angeles ovvero questo messaggio qui smetterò come si deve con l'alcol tesoro ho bevuto tutta la notte prima di accompagnare amber per un volo a los angeles brutto amico niente cibo per giorni polvere penso si riferisca alla coppia mezza bottiglia di whisky mille redbull pastiglie due bottiglie di champagne sull'aereo e cosa ottieni un injun non lo so forse un indiano inteso in modo razzista tipo un selvaggio potrebbe essere non lo so comunque un injun arrabbiato e aggressivo che urla oscenità e insulta chiunque si avvicini ho chiuso mi sono dichiaratamente fottuto il cervello per sfogare la mia rabbia verso colei che amo per pochi motivi pure cioè per motivi futili sono troppo vecchio per essere quel ragazzo ma le pillole vanno bene perché le pillole lo fanno addormentare quindi ragazzi attenzione perché in base a questo messaggio johnny sull'aereo in realtà non avrebbe proprio proprio ignorato amber per tutto il tempo ma intanto sarebbe salito sul volo strafatto come una scimmia dopodichè in qualche modo avrebbe sfogato la propria rabbia contro di lei cioè penso che sia lei quella che ama no? urlando le oscenità e diventando addirittura aggressivo i dettagli però sono lasciati all'immaginazione il team di amber immaginerà che johnny abbia dato ad amber un calcio rotante il team di johnny immaginerà che l'attore a un certo punto semplicemente le abbia detto accipigna amber sei proprio una rompiscato e che poi si sia sentito così in colpa da scrivere questo messaggio io però veramente c'è una cosa la voglio dire non capisco come faccia johnny a scrivere questi messaggi così poco specifici solo io quando litigo con filippo nei messaggi racconto tutto per filo e per segno e con tanto di contesto informazioni preliminali focus sui personaggi principali e spiegazione dettagliata dei singoli passaggi con particolare attenzione a quelli in cui lui ha torto c'è che senso ha dire le cose così a sto punto non lo scrivere il suo messaggio cioè che cosa hai fatto di aggressivo parla che oscenità le hai urlato si specifico quando ti autocommiseri johnny per favore perché devi fare vivere paul bettani col dubbio non che tutti noi soprattutto tutti noi questa non è una prova è il trailer di una prova ragazzi allora quando litighi con filippo ora se non mi fai fare le storie dal futuro allora ho trovato qualcosa ho trovato una registrazione in cui johnny e amber parlano di un volo quindi suppongo che sia proprio questo volo perché è un volo durante il quale i due in qualche modo sembra che si siano scannati amber dice a johnny non comportarti come se tu non avessi partecipato alle mie aggressioni perché lui la sta accusando di avere iniziato lei al che lui le risponde ti ho solo spinta via quindi potrebbe essere che l'aggressività verso quelle che ama sia stata lo spintone per dirle levati vabbè comunque ragazzi johnny amber da boss ne ritornano a los angeles e a questo punto christy la sorella di johnny è preoccupata per la dipendenza da roxy codone di suo fratello per questo motivo gli regala il libro del dottor keeper e lo invita ad andarsi a disintossicare da questo noto specialista ovviamente il fatto che ciò accada proprio subito dopo il volo boston e los angeles fa sospettare che johnny proprio in questo periodo ci stesse andando giù pesante cosa che in effetti lui non nega johnny accetta subito la proposta di sua sorella quindi in questo periodo conosce il dottor keeper il dottor keeper gli fa la diagnosi gli assegna l'infermiera Debbie Lloyd e alla fine insieme ai propri nuovi medici johnny decide che si andrà a disintossicare nella propria isola alle bahamas perché intanto perché lui è ricco e può ma soprattutto ragazzi johnny prende questa decisione perché vuole assicurarsi che i paparazzi non abbiano modo di fotografarlo in condizioni pietose perché sa che sarà un momento della sua vita molto delicato johnny decide che sull'isola ci andrà con Debbie e con Christy Christy in particolare ci tiene tanto ad andare con lui visto che è stata proprio lei a convincere johnny a disintossicarsi quindi appunto ci tiene molto a stare vicino al suo fratello durante questo durante questo percorso tuttavia amber si mette a fare i capricci vuole andarci lei con johnny e insiste così tanto che alla fine il posto di Christy lo prende lei quindi insomma non ci saranno i paparazzi però per fortuna ci sarà amber a preoccuparsi di fotografare johnny nei momenti peggiori della sua vita l'astinenza per johnny si presenta come l'inferno sulla terra gli vengono proprio delle crisi durante le quali si sente come se le sue interiora cerchino di scappare dal suo corpo queste sono parole sue ragazzi e durante i momenti peggiori ha dei forti crampi allo stomaco il suo corpo trema tutto in modo incontrollabile è un dolore che dice di non avere mai sperimentato prima tutti questi sintomi per fortuna vengono ridimensionati dalle medicine disintossicanti che debbi l'infermiera gli somministra è fin qui tutto regolare purtroppo però a un certo punto amber fa un patto con debbi o meglio debbi fa un patto col diavolo decidono infatti insieme che sarebbe stata amber a somministrare i farmaci a johnny e lo decidono così come cioè fingendo che questa decisione abbia un senso c'è capito christy non è andata con suo fratello perché amber doveva andarci per forza è perché debbi essendo l'infermiera non poteva mancare perché lei doveva somministrare le medicine a johnny e questa che fa se ne va a lavare le mani nell'oceano atlantico cioè io non smetterò mai di indignarmi per questa cosa debbi dà ad amber istruzioni sulle medicine e lo fa proprio davanti a johnny in particolare le spiega quella che è una regola d'oro della disintossicazione le medicine vanno somministrate ogni tot di ore ma se il paziente è a disagio o se è in uno stato che sembra poter portare anche solo potenzialmente alle convulsioni per esempio se trema le medicine devono essere somministrate devono essere somministrate benissimo mentre debbi spiega questa cosa ad amber lei prende accuratamente nota fare il cazzo che mi pare in uno dei giorni centrali del periodo di disintossicazione infatti che sono quelli più difficili per un soggetto che si sta disintossicando dalle sostanze succede una tragedia johnny è seduto sul divano è tranquillo amber affetta le verdure in cucina è una scena di apparente normalità se non che all'improvviso johnny si sente male sente che gli sta arrivando la crisi di astinenza sono circa le due e mezza del pomeriggio e immediatamente johnny dice ad amber amber ascolta dammi le medicine perché sta arrivando amber ragazzi guarda l'orologio e molto tranquillamente guarda johnny e gli risponde no non è ora non sono ancora le 4 in pratica mancava un'ora e mezza all'orario delle medicine e quindi a senso suo non gliele doveva dare johnny allora le dice amber ascolta non è questione di orari qua mi sta avvenendo la crisi di astinenza ma amber ragazzi è irremovibile il corpo di johnny comincia a tremare i dolori iniziano ad aumentare in modo esagerato perché questi tremori insomma questi sintomi provocano anche dei forti dolori e così si mette a implorare amber le chiede per favore ti prego amber per favore dammi le medicine ma lei continua a ignorarlo johnny trema così tanto che cade dal divano piange e le e continua a implorarla per favore ti prego amber dammi le medicine ma amber è tranquillissima ha capito proprio un raggio di sole gli continua a dire molto serena come se niente fosse non sono le quattro ancora no non te le posso dare il corpo di johnny a questo punto trema in modo spasmodico in modo molto doloroso e sa che ha solo un'opzione per fare cestare gli spasmi ingannare i nervi bisogna dare ai nervi dice johnny un problema più urgente di cui preoccuparsi bisogna che i nervi provino un dolore più forte che gli faccia percepire un pericolo più grave e in tutto il corpo così johnny va sotto la doccia e apre l'acqua rovente e solo quando la sua pelle inizia a ustionarsi sotto l'acqua rovente finalmente piano piano smette di tremare è un dolore molto forte lusione ma minore di quello che gli provocano gli spasmi nel frattempo johnny senti amber parlare al telefono con qualcuno dei medici non sa se debbio il dottor kipper e la sente dire non so che cosa fare perché johnny ha le manie le manie cioè le manie ragazzi sarebbero gli stati di umore umore e uforico che caratterizzano il disturbo bipolare da cui è affetto johnny non c'entrano un cacchio con gli spasmi muscolari a me sinceramente tutta questa situazione ricorda tantissimo gli orrori in sala parto e le storie di epidurale negata comunque vabbè quando johnny finalmente rivede debbie e kipper dice loro che la pacchia è finita vuole tornare a los angeles e dice che se proprio deve finire questa disintossicazione cosa che sta cominciando a mettere in dubbio lo deve fare senza amber deve finire il percorso senza di lei oppure finirà in tragedia con lui che invece di disintossicarsi da io piace inizia a farsi di sostanze nuove quindi attenzione ragazzi johnny dice o continuo senza amber oppure non ce la farò attenzione i medici capiscono la situazione e così johnny parla con amber e le spiega che è necessario per la sua salute che lei per qualche giorno se ne va da quel paese qualunque esso sia e lei dice che le regalerà una bella vacanza di 5 giorni 7 giorni o quanti ce ne vorranno per liberarsi dall'astinenza amber si arrabbia lo accusa di volerla abbandonare di volerla buttare fuori casa e lo accusa ragazzi di non apprezzare tutto quello che lei ha fatto per lui esatto e al che johnny le dice ascolta amber facciamo così la vacanza la regalo a te e alle tue amiche potete prendervi tutte quanti un bungalow al beverly hills hotel così vi andate a divertire tutte quante insieme il beverly hills hotel sarebbe una struttura a 5 stelle di extra lusso insomma johnny fa ad amber una proposta indecente e alla fine amber seppure a malincuore accetta l'offerta questo si che è contrattare tutta questa versione di johnny ragazzi però viene completamente asfaltata da nato marcio che durante il contro interrogatorio tira fuori due messaggi scritti da johnny alla mamma di amber page subito dopo la disintossicazione cioè proprio il giorno stesso del rientro a los angeles dall'isola di johnny a los angeles ovvero il 19 agosto del 2014 sentite cosa scrive johnny a page nel primo messaggio non ce l'avrei fatta senza di lei sarei andato a farmi una nuotata e avrei bevuto in un grande sorso l'oceano a essere onesti è stato un inferno da parte mia e la tua bambina ha camminato con me passo dopo passo so che sei già orgogliosa di lei ma se l'avessi vista in azione incredibile è stato un esercizio di monumentale pazienza e istinto non sarei vivo tesoro ci sono state più di un paio di volte in cui ho pensato che sarebbe stato più semplice prendere quella strada è stata amber e solo amber che mi ha fatto superare questo e non è stato facile grazie a lei prima di tutto e grazie a te e a quel dolce strozzo di david sarebbe il papà di amber per tutte le tue parole di supporto sono dall'altra parte ora penso nel secondo messaggio johnny scrive sempre a page sempre alla mamma di amber mia carissima page che incredibile gentile e puro era il tuo messaggio sono oltremodo grato di averti nella mia vita non c'è uomo più fortunato su questa terra avere la forza che mi dà amber e il pieno sostegno di ciascuno di voi individualmente che mi ha aiutato in modo incommensurabile non ho bisogno di spiegare gli orrori a te lo sai bene quanto me quello che devi sapere è che tua figlia è salita molto al di sopra del compito da incubo di prendersi cura di questo povero vecchio drogato non è mai passato un secondo in cui lei non si sia presa cura di me o non tenesse gli occhi puntati su di me per essere sicura che stessi bene le parole sono veramente deboli nel tentativo di spiegare il suo eroismo in un messaggio basti dire che non ho mai incontrato o amato una donna o una cosa più di lei lei ha la forza di mille uomini e questo lo devi a nessuno o a nient'altro che a te tesoro grazie ti voglio bene il tuo genero ora sì che ha le manie ragazzi ora per quanto nato marcio possa essere nato marcio bisogna ammettere che questi messaggi siano un po' too much cioè se è vero che Amber ti ha negato le medicine se è vero che hai dovuto mandarla via in vacanza altrimenti sarebbe stato impossibile per te disintossicarti perché scrivere a sua madre che sei già dall'altra parte quindi già hai finito di disintossicarti e che il merito sia tutto di Amber e solo di Amber che ti ha supportato senza di lei non ce l'avresti fatta cioè tra l'altro non è un messaggio scritto così ragazzi tanto per parare il sedere ad Amber con sua madre Johnny esagera proprio scrive un poema cavalleresco sulle gesta di Amber c'è decisamente troppa emozione non ha senso ragazzi quindi qua le cose sono due o Johnny sta mentendo sotto giuramento inventando completamente tutte le accuse contro Amber inerenti all'isola inerenti alla disintossicazione e quindi non è assolutamente vero che lei gli abbia negato le medicine oppure io ho una teoria perché il fatto che questa gratitudine sia così esagerata mi fa nuovamente pensare alla rubrica orrori in sala parto perché effettivamente lo scenario che si è verificato ha un po' queste vibes da orrori in sala parto con una persona che ha la soluzione al tuo dolore la medicina per risolvere il tuo dolore e si mette nella posizione di potere di farti soffrire e negartelo fingendo che sia per il tuo bene infatti come abbiamo visto nei vari episodi di questa rubrica spesso capita che le vittime di violenza ostetrica passino ore e ore a supplicare per avere una misera dose di epidurale che continua a essere negata senza motivo alcuno capita che anche che subiscano manovre invasive dolorose senza esprimere il consenso senza essere informate prima che subiscano insulti e mortificazioni ma nonostante ciò alla fine quando finalmente il pupo nasce queste stesse partorienti vittime di tutto ciò esprimono una gratitudine esagerata verso il personale medico che di fatto ha abusato di loro c'è persino chi ha portato dei pasticcini per ringraziare il personale è successo persino a me non quando alla schennata però ma quando finalmente il ginecologo ha detto fatele sto benedetto cesareo a quel punto la gioia mi ha riempita al punto che ho iniziato a ringraziare in modo esagerato le ostetriche che mi avevano negato l'epidurale per ore senza motivo e che mi avevano persino mentito sulle mie condizioni di salute pur di negarmi il cesareo che stavo implorando da ore minacciando il switch in quel momento quando poi finalmente insomma il cesareo mi è stato abbonato mi sono sentita talmente in colpa per come avevo implorato umiliandomi che mi sono persino scusata con loro che ho cominciato a vedere le cose in maniera diversa come se in realtà fossi stata io quella a sbagliare loro in realtà erano delle eroine e quindi le mie scuse nei loro confronti e i miei ringraziamenti sono stati veramente sproporzionati sono stati melodrammatici ricordo di avere detto loro cose tipo cosa ho detto ah dicevo tipo non so come fate a fare questo lavoro deve essere difficile per voi siete siete veramente splendide tipo cose proprio cioè too much non le penso se state vedendo questo video non le penso vaffan ecco ragazzi magari johnny ha provato qualcosa di simile perché è tornato a casa si è sentito meglio magari gli è finita l'astinenza prima del previsto e quindi potrebbe avere rielaborato gli eventi pensando che amber avesse fatto ciò che ha fatto solo per il suo bene come il personale sanitario con le partorienti ma in realtà non è così non c'è niente che giustifichi gli abusi è solo un modo in cui il cervello volendosi godere la gioia del momento cerca di dare un senso al trauma orribile che ha vissuto e quindi ripercorre gli eventi e da loro un significato diverso un significato più gestibile ovvero adesso sto bene quindi ha avuto senso quello che ho passato solo che non ero abbastanza lucido per rendermene conto di conseguenza amber aveva ragione quindi si crea un nesso che non esiste sto bene ora perché lei mi ha fatto questo invece col cazzo avresti stato meglio comunque anche senza passare le pene dell'inferno quindi secondo me johnny potrebbe avere scritto questi messaggi colto da questo senso di colpa misto alla gioia di stare meglio ma ovviamente ragazzi questa è tutta una teoria di fatto potrebbe benissimo avere raccontato fandoni alla giuria per fare passare amber come una pazza entrambi gli scenari sono plausibili ditemi cosa ne pensate voi e come la vedete voi nei commenti comunque in conclusione johnny riesce a disintossicarsi da questi maledetti oppiacei e a questo punto amber gli chiede di smettere anche di bere per salvare la relazione perché secondo amber johnny non solo beve troppo ma quando beve diventa una brutta persona diventa un mostro lei lo definisce un mostro però in realtà secondo johnny amber lo accusava sempre di avere bevuto anche quando non aveva bevuto cioè se lui faceva qualcosa che a lei non andava a genio allora lei subito lo accusava di essere ubriaco di avere bevuto e raccontava persino in giro che lui avesse bevuto quando lui magari era lucido come uno specchio comunque johnny ragazzi pur di salvare la relazione accetta e smette di bere alcol in questo periodo nell'agosto del 2014 ricordatevi questa cosa nonostante johnny non assuma più sostanze decide che il 3 febbraio 2015 sposerà amber i danni permanenti causati dall'alcol evidentemente sono più gravi di quanto non sembrasse tra i vari preparativi johnny cerca di convincere amber a firmargli un accordo prematrimoniale così che in caso di divorzio i termini di eventuali mantenimenti soldi da uscire eccetera eccetera fossero già tutti decisi e non ci fosse bisogno di cominciare una battaglia legale con la quale amber avrebbe potuto provare a rubargli pure le scarpe da sotto i piedi ma amber ha un'idea diversa secondo lei johnny dovrebbe attaccarsi al tram i due litigano e discutono e a furia di litigare si ritrovano a febbraio quando ormai non c'è più tempo per firmare l'accordo amber vince fondamentalmente prendendo tempo a furia di litigare al matrimonio di johnny e amber ci sono tanti amici e familiari di amber e pochissimi invitati di johnny in totale erano circa 20-25 e dalle piccole cose che si capisce che non ci troviamo in italia tipo 20 invitati a un matrimonio 20 invitati qua da noi sono solo una famiglia tipo lo zio totò no? con moglie e figli comunque tra gli invitati c'è una persona che non si presenta la figlia di johnny lili rose lili rose decide di non partecipare a quella che per lei è tutt'altro che una festa si avvicina più a una specie di lutto tra i figli di johnny e amber infatti non scorre buon sangue addirittura ragazzi johnny dice i miei figli sono molto più intelligenti di me si sono rifiutati di starle intorno la cosa bizzarra però è che proprio nel 2015 dopo il matrimonio amber ha rilasciato un'intervista a mary claire in cui ha detto che essere la matrigna di jack e lili rose per lei è un onore perché loro hanno aggiunto nuovi colori alla sua vita e ora è felice di questo siamo a livelli di mitomania biblici durante la festa nuziale la gente balla mangia e si fa dmdma che circola tra i tavoli al posto dello champagne amber si sballa di sostanze insieme ai propri amici rocky e aio come se fosse all'addio al nubilato mentre johnny essendo un bravo ragazzo con la testa sulle spalle si limita a fumare erba una settimana dopo il matrimonio johnny dice ad amber ti è piaciuta la festa si auguri mi firmerai un accordo post matrimoniale e dopo averle fatto questo discorso parte per l'australia dove andrà a girare pirati dei caraibi 5 contemporaneamente amber vola a londra per girare london fields un film attenzione ragazzi con cara delle vigne e billy bob torn vi ricordate l'ex di angelina jolie con il quale lei aveva stipulato un patto di sangue proprio lui qui per la storia di brad e angelina terminate le riprese di london fields nel marzo 2015 amber raggiunge johnny in australia la casa australiana in cui la coppia alloggia non è proprio una dimora che porta fortuna alle coppie infatti in passato ci hanno alloggiato guarda caso proprio brad pitt e angelina jolie ma questo è un dettaglio irrilevante comunque amber arriva da johnny e già borbotta già già incazzata già quella mattina amber si è alzata con il piede sbagliato e gli continua a ripetere non sono neanche nel tuo testamento non sono neanche nel tuo testamento non sono neanche nel tuo testamento johnny le chiede cosa sia successo e amber gli racconta allora io ho deciso di informarmi su questo accordo post matrimoniale che vuoi tu quindi ho chiamato i tuoi avvocati e al telefono mi ha risposto una scelta jake bloom l'avvocata jake bloom che mi ha spiegato un paio di cose un paio di cose brutte che non mi sono piaciute quindi le ho detto guardi avvocata jake bloom secondo me johnny queste cose non le ha capite cioè lui non stipulerebbe mai una cosa di questo genere non mi farebbe mai una cosa simile al che dice amber a johnny la tua avvocata si è messa a ridere fragorosamente ma ha risposto no forse non hai capito tesoro mio johnny sa tutto la tua avvocata è una gran maleducata non che è una grandissima puttana dice amber a johnny quindi ragazzi amber sbarca in australia da una parte umiliata dall'avvocata jake bloom dall'altra parte profondamente offesa con johnny perché per lei questo accordo post matrimoniale aveva solo un significato johnny non si fidava di lei e infatti amber si mette a ripetere a johnny in modo insistente tu non ti fidi di me non ti fidi di me perché appunto per lei il fatto che johnny volesse deciderli prima i termini del divorzio significava che lui pensasse che in caso si fossero lasciati lei avrebbe cercato di mandarlo in rovina cosa che non era assolutamente vera dirà amber dalla sbarra se gli anni dopo averlo minacciato di denunciarlo per violenza domestica se non le avesse mollato 50.000 dollari di mantenimento al mese comunque ovviamente johnny cerca di calmare amber cerca di farla ragionare di farle capire che lui non abbia alcuna intenzione di ingannarla ma amber ragazzi continua a scaldarsi la discussione continua a intensificarsi fino a trasformarsi nel caos più totale a un certo punto amber è così arrabbiata da sembrare posseduta capendo l'antifona johnny 4 4 esce di scena cambia stanza al che amber urla a johnny sei una femminuccia non combatti per me johnny al che va a chiudersi in bagno perché scappare sarà anche da femminuccia ma di fatto ha permesso a tantissime specie animali di sopravvivere amber lo segue in bagno e comincia a bussare forte alla porta boh urla di uscire vieni fuori e johnny a un certo punto cede esce dal bagno ma amber lo colpisce cerca lo scontro fisico da quello che si capisce in effetti johnny anche se non lo dice espressamente in tribunale ovviamente si capisce che abbia risposto alle percosse di amber per divincolarsi e scappare in un altro bagno di nuovo amber lo segue di nuovo comincia a bussare alla porta come se volesse buttarla giù comincia di nuovo a urlare fino a che johnny di nuovo non apre la porta ma amber di nuovo lo aggredisce johnny allora si divincola e fugge in un altro bagno ancora e questa cosa si ripete per cinque volte johnny in australia scappa da amber rifugiandosi in cinque bagni ragazzi cioè è chiaro che johnny abbia scelto questa casa specifica per l'elevato numero di bagni in cui rifugiarsi in caso di lite pensate che in questo posto ce ne sono addirittura dieci in totale cioè johnny quando fa le ricerche su booking secondo me come prima cosa controlla quanti bagni abbia una casa non sceglie la migliore qualità prezzo sceglie quella che gli ottimizza le possibilità di chiudersi in bagno se vi ricordate nella parte 1 abbiamo sentito una registrazione in cui johnny si sente che accusa amber di averlo sottoposto a questo inseguimento violento in australia e di averlo seguito in cinque bagni mentre lui scappava e di averlo aggredito fisicamente ogni volta che apriva la porta del bagno prima di fuggire in un'altra stanza in cui lei lo sarebbe andato a prendere comunque vi avevo promesso che ve l'avrei fatta risentire quando avremmo parlato dell'australia quindi come promesso ecco a voi to avoid talking to me to escape and when it gets too fucking hairy the rest bang 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 you kept coming to get me dopo la quarta lotta fisica con amber johnny si rifugia in un quinto bagno e lì si siede per terra ascoltando la porta che sbatte con amber che bussa che urla fino a quando finalmente miracolo non la sente che si allontana a questo punto johnny chiama jake bloom l'avvocata quella che aveva provocato la rabbia di amber per telefono e dice johnny purtroppo mi vergogno di dover raccontare davanti alla giuria che ho usato contro jake bloom le parole che amber continuava a dire di lei johnny non lo dice esplicitamente ci gira molto intorno però insomma praticamente ragazzi cosa è successo che johnny ha chiamato jake bloom e le ha detto sei una puta e ha bloccato lo sappiamo perché elaine durante le dichiarazioni di apertura non si è posta particolari problemi retorici nel raccontare questo anebduto fatto questo johnny butta giù il telefono ed esce dal bagno e cercando di non farsi vedere da amber scende al piano di sotto al piano di sotto nella casa australiana c'è questo bar johnny entrando in questo bar trema si sente un relitto e non riesce a spiegarsi perché si senta così male a questo punto è sobrio ormai da molti mesi ma gli sembra un buon momento per brindare alla sua vita di merda così johnny va dietro il bancone prende una bottiglia di vodka si assicura che non ci sia amber nei paraggi si versa un bicchierino si siede e se ne scola tre a questo punto amber scende e lo becca con le mani nel sacco e gli dice ahà stai bevendo di nuovo il ritorno del mostro johnny non potendo negare l'evidenza le risponde eh sì a quanto pare sto bevendo di nuovo al che amber si avvicina johnny prende la bottiglia di vodka e gliela tira contro johnny si sposta e riesce a evitare che gli arrivi in faccia così la bottiglia colpisce lo specchio che vedete dietro il bancone il quale ovviamente si frantuma perfetto e altri sette anni di sfiga non glieli toglie nessuno a sti due johnny allora si alza prende una bottiglia di vodka ancora più grande torna davanti il bancone si siede sullo sgabbello apre la bottiglia si versa uno shot e se lo cala salute amber mentre lui fa tutti questi movimenti amber in filo diffusione lo insulta a manetta a questo punto amber infastidita impreda la frustrazione prende la bottiglia e gliela lancia da una distanza ravvicinata penso tipo così frantumandola sulla mano di johnny che lui aveva in questa posizione appoggiata sul piano di marmo johnny sente un calore irradiarsi sulla mano sente qualcosa che gocciola ma non capisce subito cosa sia successo non prova dolore prova solo appunto questa strana sensazione di calore che lo spinge insomma a guardarsi la mano al che vede l'osso del dito medio sporgere dal suo dito e realizza che gli manchi un po' il pastrello johnny a questo punto sente letteralmente il cervello che se ne va entra in uno stato di coscienza alterato e tutto inizia a sembrargli confuso la voce di amber che lo insulta che gli urla contro diventa una specie di rumore bianco e nel frattempo mentre lui è in questo stato di shock in questo stato confusionale amber prende una sigaretta accesa posata sul portacenere che johnny stava fumando e gliela spegne in faccia e meno male che johnny non l'ha messa nel testamento altrimenti chissà johnny tocca il fondo e ricorda di aver pensato no questa non è vita nessuno dovrebbe passare tutto questo amber finalmente si rende conto della gravità della ferita di johnny e così se ne va lasciandolo da solo nel bar ferito e in preda a uno stato confusionale oltre alla violenza domestica quindi abbiamo anche il reato di omissione di soccorso dico io ma è normale che questo sia un processo per diffamazione cioè ma a questo punto chi se ne frega della diffamazione ci sarà pure un letto libero nel carcere della virginia o no mi dispiacerebbe solo per chi si ritroverebbe a condividere la scella con lei anzi nel caso dovesse mai accadere assicuriamoci che nella stanza ci siano abbastanza bagni per tutte mi raccomando è importante Tony a questo punto ha un vero esaurimento nervoso perde il contatto con la realtà è sotto shock si guarda intorno e in mezzo alla distruzione vede un barattolo di vernice va e ci intinge dentro il dito quello ferito e così usando un mix di sangue e pittura inizia a scrivere per casa quelli che lui definisce piccoli ricordi del nostro passato parole che rappresentano le tante tante bugie di Amber che lui aveva smascherato nel corso della relazione Johnny non ci racconta molti dettagli su queste bugie quindi siccome io li volevo sapere ho cercato di fare un'analisi delle scritte sugli specchi del bagno la prima cosa che ho notato è questa scritta rossa sotto quelle nere che dice I love you con tanto di cuore la calligrafia è la stessa quindi la scritta Johnny questa cosa mi ha fatto immaginare uno scenario ipotetico Johnny potrebbe avere scritto questo messaggio per Amber prima che arrivasse in Australia mentre l'aspettava per accoglierla al suo arrivo con un gesto romantico facendole trovare in bagno questa scritta solo che dopo tutto questo macello Johnny entrando in bagno e rivedendo questa scritta tanto romantica potrebbe essere stato colto dall'ispirazione insomma dall'idea di scriverci sopra degli aggiornamenti un'altra frase che leggiamo sullo specchio è she loves naked photos of herself cioè lei ama le foto nude di se stessa a tal proposito Johnny una spiegazione in tribunale la dà anche se è approssimativa e cosa dice dice che Amber in quel periodo gli aveva detto di non volere essere ingaggiata nei film sempre solo per spogliarsi e aveva chiesto a Johnny dei consigli per tirarsi fuori da questo ruolo di biondina che esce le tette perché ormai purtroppo la chiamavano nei film solo per interpretare questa tipologia di ruolo Johnny le aveva quindi dato dei consigli attingendo alla propria esperienza perché anche lui da giovanissimo era sempre ingaggiato per fare il belloccio la cui faccia poi finiva sui poster bagnati nelle camerette delle ragazzine e quindi lui ha lottato tanto per liberarsi da questa immagine che non gli piaceva anche lui voleva essere apprezzato per il proprio talento e non solo per la propria bellezza tuttavia dice Johnny l'ambizione di Amber si è rivelata essere più forte del mio consiglio e non aggiunge altro ragazzi l'unica cosa che vi posso dire è che grazie ai nuovi documenti che sono stati resi pubblici ultimamente sappiamo che il team di Johnny abbia tentato di fare ammettere come prove delle foto di nudo di Amber è che però ovviamente la cosa non sia stata approvata non ci sia non ci sia riuscito tra l'altro sono volate accuse di revenge porn contro Johnny perché queste immagini sarebbero state viste in mondo visione visto che il processo è stato pubblico e secondo queste voci Johnny lo avrebbe fatto per vendetta avrebbe voleva sputtare Amber mostrando le sue foto di nudo io ragazzi non credo che le cose siano andate esattamente così io penso che le foto di nudo come prova servissero casomai per provare che Amber effettivamente tradisse Johnny gli raccontasse delle menzogne però in effetti poteva succedere che qualche giornale riuscisse a trovare le foto attingendo ai documenti del processo visto che comunque non è difficile anche quando non mostrano le foto proprio durante la live durante la diretta comunque online con un po' di impegno le trovi vabbè in ogni caso il fatto che Johnny volesse portare come prove dei news di Amber unito al fatto che sullo specchio abbia scritto lei ama le foto di se stessa nuda e al fatto che abbia raccontato che alla fine la sua ambizione abbia vinto sui consigli di Johnny unendo cos'è accaduto non importa oggi saremo l'oligarchia del guto comunque unendo tutti questi puntini mi viene da pensare che Amber possa aver mandato dei news a qualcuno magari qualcuno che poteva farle ottenere un qualche ruolo in qualche film e che Johnny l'abbia sgamata non dimentichiamo infatti che lui dice che queste scritte le abbia fatte per ricordo delle bugie che Amber gli ha raccontato comunque a parte questa mia teoria che appunto ragazzi è solo è soltanto una teoria in basso sempre sullo specchio vediamo anche una scritta in rosso fatta con un'altra calligrafia però e questa scritta dice chiama Carly Simon lei ha detto che è meglio tesoro ciao ragazzi sono la Iris del futuro non so perché questa parte della clip è rovinata quindi ve lo devo dire così dal futuro che secondo me questa cosa l'ha scritta Amber semplicemente e penso che sia appunto la sua risposta alla questione delle foto di nudo quindi questa Carly Simon dovrebbe avere a che fare con delle foto di nudo chi sia ve lo spiego adesso quando la clip ricomincia a funzionare è una cantante non mi risulta che abbia qualche tipo di rapporto con Johnny o quantomeno non sono riuscita a trovare nulla a tal proposito quindi potrebbe essere che Johnny avesse qualche foto di nudo di questa cantante conservata da qualche parte che Amber gliel'abbia beccata non so però tutto questo ci rimanda a un'altra scritta fatta da Johnny su un altro specchio come vedete c'è scritto protagonista Billy Bob Amber facile dunque praticamente Johnny pensa che Amber lo abbia tradito con Billy Bob Thornton l'attore protagonista del film che Amber ha girato prima di raggiungerlo in Australia London Fields non sappiamo ovviamente se sia vero oppure no perché Johnny questa cosa in tribunale di questa cosa in tribunale non parla non la racconta e manco la menziona per sbaglio sappiamo però che nel 2016 uscì la notizia del tradimento di Amber con Billy Bob tuttavia l'attore Billy Bob al tempo la smentì con un comunicato stampa in cui dichiarava che l'unica volta in cui aveva socializzato con Amber Heard fuori dal set fosse stata a una cena con il cast aggiunge nel comunicato che assicura a sua moglie che siano tutte fantasie di Johnny io comunque mi auguro che fossero davvero tutte fantasie di Johnny perché onestamente a una settimana dal matrimonio cornificare Johnny Depp con Billy Bob Thornton no 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 mi offendo io comunque ragazzi per tutta la testimonianza di Johnny ho avuto la sensazione che lui abbia tentato di tutelare l'immagine di Amber perché nonostante ormai è provato e comprovato che Amber e le corna gliele abbia fatte uscire pure dal buco del culo comunque Johnny non ha mai menzionato i tradimenti non ha mai parlato degli altri uomini e non è mai entrato nel merito delle bugie dice che in generale lei raccontasse bugie ma tutte le volte in cui ha l'occasione di entrare nel merito di queste bugie e sputtarla lui cambia discorso per esempio ragazzi in London Fields dovete sapere che come dicevamo all'inizio recita anche Cara Delevingne è un testimone di Amber Josh Drew cioè il fidanzato dell'epoca di Rocky Pennington la best friend di Amber loro sono la bella e la bestie Josh testimonierà di essere a conoscenza del fatto che Amber Herd nel 2015 nel periodo dell'Australia avesse una relazione con Cara Delevingne e che le due insieme trascorressero notti a dir poco interessanti con Elon Musk con il quale Amber in effetti dopo il divorzio da Johnny Depp ha subito instaurato una relazione il fatto che Johnny eviti di scadere nel drama secondo me significa che senta di avere cose molto più importanti da dire in tribunale e che non voglia distogliere l'attenzione da quelle che sono le cose veramente gravi che Amber gli ha fatto che vanno ben oltre quella che può essere la gravità di un tradimento è come se non avesse bisogno di screditarla tirando in ballo i tradimenti per dimostrare di essere innocente perché dimostrare di essere innocente e far sapere quale sia la verità è ciò che interessa a lui e in effetti questa è la prima cosa che Johnny ha detto nel momento in cui stai seduto alla sbarra io sono ossessionato dalla verità ha detto io sono qui perché voglio che il mondo sappia la verità quindi il suo obiettivo non è quello di distruggere ulteriormente Amber più di quanto lei non abbia fatto da sola quindi non è qua per aggiungere carne al fuoco contento lui l'ultima opera d'arte di Johnny è questo paralume sul quale scrive buona fortuna e stai attenta in cima quindi il tema è sempre quello ragazzi Amber che per fare la propria scalata sociale secondo Johnny è disposta a tutto infatti la foto di questo paralume lui la commenta dicendo ho pensato che fosse un buon consiglio quindi pure in tribunale ancora convinto di aver fatto bene finito di fare i graffiti Johnny si ricorda dell'esistenza delle infezioni e scrive al dottor Kipper di essersi tagliato un dito Kipper arriva molto presto e gli pulisce la mano che era truccata da Jack Sparrow e lo porta subito in pronto soccorso prima però Johnny chiede alla propria sicurezza di portare via Amber ovunque lontano da lui Johnny racconta al dottor Kipper durante il viaggio verso il pronto soccorso come le cose fossero andate veramente gli dice espressamente che fosse stata Amber a ferirlo tuttavia al pronto soccorso decide di mentire d'altra parte lui è Johnny Depp e l'altra è Amber Herd dire la verità sarebbe significato sollevare uno scandalo mediatico allucinante che avrebbe distrutto la vita di Amber e forse anche quella di Johnny per di più ragazzi io penso che in queste situazioni i medici siano proprio obbligati a sporgere denuncia e quindi insomma Johnny non voleva mettere Amber nei guai nonostante tutto e così come spesso fanno le vittime di violenza domestica si ritrova in ospedale a mentire su come si è procurato la ferita dicendo semplicemente di essersi schiacciato il dito in una porta viene quindi mandato da un chirurgo che però si rende immediatamente conto di quanto questa cosa della porta sia una balla perché la ferita di Johnny è una ferita di velocità e il chirurgo se ne accorge non è una ferita da schiacciamento in ogni caso Johnny è costretto a interrompere le riprese di Pirati dei Caraibi e tornare a Los Angeles per farsi operare al dito e farsi mettere un innesto cutaneo ed è qui che secondo me ragazzi Amber inizia veramente a danneggiare la carriera di Johnny Depp ben prima dell'articolo sul The Washington Post perché lui deve smettere di lavorare a causa della ferita che lei ha causato mentre Johnny rientra a Los Angeles il proprietario no scusate il direttore della casa australiana Ben lo chef trova l'appartamento in condizioni pietose è completamente distrutta c'è sangue sui pavimenti c'è sangue sui divani c'è una finestra rotta c'è addirittura un bicchiere incastonato nella televisione un tavolo da ping pong collassato spaccato in totale ci sono danni da almeno 50.000 dollari chiaramente l'armadillo è tornato a cercare Johnny ed è più incazzato che mai Johnny si opera il dito e dopo qualche settimana torna in Australia per terminare le riprese di Pirati dei Caraibi 5 purtroppo però è costretto a tenere una benda per proteggere il dito una benda che nel film di Pirati dei Caraibi viene rimossa in post produzione succede un giorno che però la ferita gli si infetta è il chirurgo è costretto a riaprire tutta la situazione e così scopre che Johnny ha contratto un'infezione ha contratto proprio una sindrome che non ho capito bene come si chiami però ho capito che fa male fa male assai cioè il dolore dice Johnny era lancinante nonostante questo dolore lancinante Johnny riesce a non prendere gli opiacei sa benissimo che basterebbe una sola pillola di roxicodone per ricascare nella dipendenza e lui non ha nessunissima intenzione di passare di nuovo dall'inferno della disintossicazione quindi se ricomincia questa volta è per sempre non ne vale la pena quindi in questo periodo Johnny ha la mano devastata considerate che lui ha perso il dito l'8 marzo cioè secondo la sua versione Amber gli ha tagliato il dito l'8 marzo 2015 quindi poi subito si è operato e appunto c'è stato il periodo di convalescenza tuttavia secondo la versione di Amber per assurdo il 23 marzo 2015 Johnny avrebbe distrutto l'armadio di Amber e poi l'avrebbe picchiata colpita ripetutamente fino a che Whitney la sorella minore di Amber non si sarebbe messa in mezzo a loro per fermare la lite al che Johnny avrebbe fatto il gesto di spingerla giù dalle scale e Amber allora per proteggere la sorella gli avrebbe dato un pugno in faccia e Amber dice che quella è stata l'unica volta della sua vita in cui lo ha colpito per difendere la sua sorellina benissimo ragazzi Johnny dice è impossibile perché io il 23 marzo 2015 avevo la mano destra fasciata infetta con la sindrome del dolore figuriamoci se la usavo per picchiare Amber perché non amputarmela direttamente con un coltellino svizzero a questo punto le cose dice Johnny quel giorno in realtà sono andate assai diversamente lui e Amber secondo la versione di Johnny si trovavano nell'appartamento numero 5 dove c'è una scala anzi in effetti ce ne sono due di scale nel piano più alto c'è l'ufficio di Amber scendendo la prima rampa di scale si arriva nel pianerottolo e scendendo la seconda rampa di scale si arriva non lo so in uno spazio tutti i diritti del disegnino ovviamente sono riservati quindi cosa succede secondo Johnny il 23 marzo 2015 lui e Amber sono nel pianerottolo a litigare sul luogo sono presenti anche la sorella di Amber Whitney e l'infermiera Debbie Lloyd che per qualche motivo è ferma in piedi davanti la porta Amber cerca in tutti i modi di arrivare a Johnny per colpirlo e per questo motivo Whitney si mette in mezzo davanti ad Amber di fronte ad Amber e affronta sua sorella per fermarla ma Amber continua a lanciare pugni a vuoto trattenuta da Whitney fino a che non riesce a raggiungere Johnny e a sferrargli un bel destro in piena faccia a questo punto Johnny scende la seconda rampa di scale e giù trova Travis McGivern nella penthouse i personaggi si trovano tipo nei videogame sono così sparsi in modo casuale che non fanno assolutamente nulla a parte aspettare che il protagonista del gioco interagisca con loro c'è Travis McGivern così che galleggia sotto la rampa di scale Debbie Lloyd invece che galleggia davanti la porta questa cosa mi fa ridere però in realtà c'è ben poco da ridere perché Johnny per come vede Travis che ricordiamo comunque essere la sua guardia del corpo una delle tante sue guardie del corpo gli dice andiamocene e mentre i due fuggono via qualcuno lancia a Johnny qualcosa dalle scale qualcuno chi sarà stato mai opzioni Debbie Whitney l'armadillo Amber una volta uscito dall'appartamento 5 Johnny chiama Sean e si fa portare via questo ragazzi è il giorno in cui Sean scatta questa foto a Johnny per immortalare il livido che Amber gli ha lasciato in faccia dandogli un pugno ora vi ricordate che Amber dopo la disintossicazione sull'isola nel 2014 aveva chiesto a Johnny di smettere di bere per salvare la relazione e che lui aveva smesso ebbene esclusa la parentesi australiana Johnny da quel momento non tocca più alcol per 18 mesi in tutto ciò però Amber beve almeno due bottiglie di vino a sera è perennemente ubriaca spesso anche fatta perché fa regolarmente uso di MDMA speed e funghi allucinogeni e Johnny siccome è un cavolo di sottone che certe volte mi fa proprio venire voglia di strattonarlo e dirgli oh ma ti svegli fa pure il romanticone ragazzi le stappa le bottiglie le versa il vinello però lui non beve capito per salvare la relazione va bene ok il 7 giugno 2015 un caro amico di Johnny purtroppo viene a mancare si tratta dell'attore Christopher Lee celebre per avere interpretato Dracula Johnny si reca al funerale di Christopher Lee e durante la festa perché se guardate abbastanza serie tv americane sapete che in America fanno una specie di festa dopo i funerali no e quindi appunto durante questa festa c'è il tizio che porta i bicchieri di champagne per fare il brindisi Johnny ne prende uno uno solo ovviamente e brinda a Christopher Lee la sera stessa Johnny va a prendere Amber e i due vanno a cena fuori durante la cena lui le racconta la giornata le racconta del funerale e ancora molto provato le dice ho preso un bicchiere di champagne e mi è sembrato di brindare con Christopher Amber che a tavola con Johnny aveva pure il suo bel calice di vino davanti si arrabbia inizia a dirgli che è un debole un alcolizzato gli dice i tuoi figli sicuramente non sono orgogliosi di te e alla fine si alza e si precipita furiosa nel bagno delle donne ogni tanto è lei ad andarsene in bagno vabbè ci sta Johnny nel dubbio chiede alla sicurezza di portarlo via la cosa che trovo assurda ragazzi è che mentre Johnny racconta questo aneddoto sente l'esigenza di giustificarsi cioè di giustificare il fatto che abbia bevuto il bicchiere di champagne al funerale di Christopher Lee capito e comincia a dire io non ho bevuto per seppellire qualcosa la sofferenza non ho bevuto per consularmi io ho solo voluto fare un brindisi per il mio amico come ha fatto chiunque altro cioè capito è come se avesse talmente interiorizzato il terrorismo psicologico di Amber che pensa di doversi giustificare in tribunale per un cacchio di bicchiere di champagne bevuto al funerale di un suo amico ma chi se ne fotte dopo questa discussione Johnny parla con Amber e finalmente glielo dice finalmente allora Amber visto che per te io sono un alcolizzato perché ho bevuto due dita di champagne allora facciamo una cosa aiutami aiutami nel mio percorso di disintossicazione aiutami a liberarmi da questa grave dipendenza condividi con me la sobrietà Amber gli risponde no non ci penso proprio io non ho una dipendenza fisica dall'alcol quindi no passo capito lei smette quando vuole bere due bottiglie di vino a sera secondo lei non è una dipendenza no Amber non beve tutto questo vino perché è un'alcolizzata lei è molto religiosa e fa l'eucarestia molto frequentemente in tutto ciò ricordiamo sempre che per una persona dipendente dall'alcol che smette di bere vedere gli altri che bevono è una tortura che può causare ricadute così come per una persona che smette di assumere sostanze vedere gli altri fare uso di sostanze può causare ricadute indi per cui una persona che ti ama in modo sano dopo averti indotto a smettere di bere non ti beve davanti ogni singolo giorno ma manco ogni tanto non si ubriaca davanti a te altrimenti non ti ha fatto smettere per il tuo bene ma solo per confermare a se stessa di avere il controllo su di te è diverso è per confermare a se stessa che può farti fare tutto quello che vuole sei il suo burattino oltretutto ragazzi cioè se tu hai smesso di bere per me e poi io mi faccio versare il vino da te ti sto sottomettendo è un comportamento talmente sadico ragazzi che veramente sto facendo fatica a trovare le parole giuste per descriverlo soprattutto parole che io non debba poi censurare in post produzione solamente due giorni dopo la dipartita di Christopher Lee il 9 giugno 2015 Johnny Depp fa il compleanno e Amber gli fa un regalo originale un coltello sulla cui lama c'è inciso hasta la muerte che significa ragazzi fino alla morte e poi c'è scritto baci baci slim vi faccio vedere solo l'incisione perché su questa piattaforma è preferibile non mostrare armi io sinceramente ragazzi non pensavo che potesse esistere al mondo un regalo di compleanno peggiore e più inquietante dell'ologramma del papa di Kim Kardashian by Kanye West e invece mi ritrovo a dire che qualcuno qua ha stabilito un nuovo Guinness World Record secondo me non lo so se la giocano comunque passata l'estate l'episodio successivo di violenza domestica di cui si parla è cioè risale al 15 dicembre 2015 anche se ragazzi io vorrei aggiungere che anche l'autunno non è che sia stato tanto più tranquillo infatti il 22 ottobre 2015 Johnny si è scambiato dei messaggi con la mamma di Amber e io questo cioè un messaggio in particolare ve lo voglio leggere perché secondo me è importante e penso che l'unico motivo per cui non sia stato letto è che la mamma di Amber purtroppo recentemente è venuta a mancare e quindi non può testimoniare a riguardo è da quello che mi avete fatto capire quando mi chiedevo come mai la registrazione di Jerry Judge che parla di quello che è successo in Australia non sia stata usata come prova mi avete fatto capire insomma che se una persona è deceduta insomma le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate come prova perché sono per sentito dire valgono come sentito dire una cosa simile allora ragazzi Johnny il 22 ottobre 2015 scrive alla mamma di Amber le mie più sincere scuse cara Paige ma stasera ha avuto uno dei suoi attacchi di rabbia che già sentivo nell'aria le ho chiesto scusa mille volte perché le ho rovinato la serata nascondendomi nell'unico posto in cui non può raggiungermi il mio bagno e ho messaggiato un po' con mio figlio Jack poi ho fatto una doccia perché lei era piena di odio ferita e mi ha trattato come la feccia della terra mentre me ne stavo andando è esplosa e ha iniziato con la sua solita serie di insulti lanciandomi una bottiglia piena di tè freddo alla testa ora me ne sto andando in realtà ho dovuto chiedere alla sicurezza di raggiungerci per intervenire proprio come ho fatto l'ultima volta che mi ha tirato un paio di pugni alla mascella con tanta amarezza passiamo quindi al 15 dicembre 2015 perché finalmente sentiamo la versione di johnny depp a riguardo questo episodio ragazzi infatti è quello che amber ha raccontato al telefono con la psicologa con la dottoressa anderson dalla quale si è poi recata due giorni dopo per mostrarle i lividi sotto gli occhi lividi che secondo un referto medico non aveva quello stesso giorno quando si è recata nello studio del dottor keeper dicendo dichiarando di avere battuto la testa due giorni prima e temendo quindi un qualche trauma cranico questo ragazzi secondo me è un episodio chiave perché se la versione di johnny è vera ci dice tantissimo su quella che potrebbe essere la psicologia dietro le false accuse di amber herd allora il 15 dicembre 2015 johnny e amber litigano tanto per cambiare dopo un po johnny johnny se ne va cambia stanza e fa perrecarsi nel proprio ufficio che è dentro la stessa penthouse in cui la coppia appunto è la che litiga ma all'improvviso mentre johnny si sta avvicinando alla porta del proprio ufficio amber esce dalla camera da letto e piazzandosi alle spalle di johnny cioè prendendolo alle spalle inizia a tirare gli pugni in modo casuale dietro la testa johnny istintivamente si abbassa facendo questo movimento che replica alla sbarra mentre racconta questa faccenda ma amber non si ferma continua a colpire johnny muovendo le braccia così a caso in modo selvaggio al che johnny si gira verso amber ma amber continua a picchiarlo oscillando le braccia facendo oscillare le braccia selvaggiamente lui resta in questa posizione cercando di proteggersi la faccia con le mani e a un certo punto riesce a cingere amber con le proprie braccia per bloccarla amber si dimena tentando di divincolarsi dalla presa di johnny e tra lei che tenta di dimenarsi e johnny che tenta di trattenerla le loro teste a un certo punto si scontrano accidentalmente al che amber inizia ad accusare johnny di averle dato una testata e di averle addirittura rotto il naso johnny al che lascia andare amber e lei se ne va johnny allora se ne va in camera da letto e amber lo raggiunge esattamente sette otto minuti dopo un tempo stranamente specifico si presenta davanti a johnny con un fazzoletto al naso glielo mostra e gli fa vedere che è sporco di sangue e gli dice complimenti johnny mi hai rotto il naso johnny è scioccato cioè qualcosa non gli torna è sicuro di non averle cioè c'era lui quando le loro teste si sono scontrate ed è sicuro di non averle toccato il naso ma soltanto la fronte cioè ma pure dal rumore si capisce se batti contro la fronte o batti contro una cosa morbida piena di cartilagine come è il naso eppure amber è furiosa e insiste sul fatto che lui gli abbia dato una testata sul naso rompendoglielo fratturandoglielo johnny preoccupato continua a chiederle stai bene fammi vedere fammi vedere che cos'è successo le chiede di poter controllarle il naso no ma amber è arrabbiata e si rifiuta di farsi guardare da lui dopo un po' amber entra in bagno butta il fazzoletto nel cestino e se ne va si allontana è a questo punto che johnny ragazzi fa qualcosa di disperato entra in bagno apre il cestino prende il fazzoletto sporco e realizza che amber sia una grandissima manipolatrice il fazzoletto è macchiato questo è vero ma non è macchiato di sangue è palesemente macchiato di smalto per unghie rosso e le differenze ci sono ragazzi c'è il sangue è molto liquido quindi tipo bagna il fazzoletto mentre lo smalto al contrario è corposo si indurisce a parte che puzza di smalto se lo vedi da vicino riconosci la differenza anche se non sei un estetista anche se non sei un medico anche se non sei non lo so un biologo e per lavoro non fai le autopsie capisci comunque mentre Johnny racconta questa cosa alla sbarra Amber è scioccata ragazzi è sconvolta a giudicare dalla sua espressione non se l'aspettava che Johnny avesse raccolto il fazzoletto dal cestino non lo sapeva questa del 15 dicembre è la famosa lite per la quale Amber avrebbe scritto a Rocky Pennington il seguente messaggio gli ho detto mi hai dato una testata e la sua risposta ti ho dato solo una piccola botta con la testa e poi ha lasciato la stanza dicendo quanto fosse un disastro e cose del genere si autocommisera poverino quindi la stessa Amber conferma che Johnny le abbia dato solo una piccola botta con la testa e che non lo abbia fatto apposta tanto da uscire dalla stanza autocommiserandosi per l'incidente oltretutto come vi dicevo questa sarebbe la famosa botta in testa per la quale Amber il 17 dicembre sarebbe andata a farsi controllare nell'ufficio del dottor Kipper dicendo che due giorni prima avesse sbattuto la testa e che pensava di avere un trauma cranico in tutto ciò in questo deserto non si parla di nasi rotti cioè il naso di Amber apparentemente sta meglio del mio e per fortuna altrimenti quella sera Amber difficilmente avrebbe potuto partecipare al al the late show no? con un naso rotto quando hai il naso rotto comunque hai un minimo di sinusite cioè non puoi manco dire le M penso che parli tipo come se avessi il raffreddore bababia come Storm dice che al the late show il suo aspetto così così fresco fosse tutto merito della makeup artist però insomma va bene tutto ma una frattura al naso non non la puoi nascondere con il trucco comunque sì il trucco sicuramente era fatto bene molto carino anche lo smalto rosso sulle unghie ora ragazzi se la versione di Johnny è vera questo episodio ci dice moltissimo su Amber Amber infatti risulta essere quel tipo molto simpatico di persona che ti aggredisce e se per caso le afferri il polso per bloccare le sue aggressioni ti dice ah mi stai facendo male e ti rinfaccia a vita di averle usato violenza in questo modo sei costretto a sottometterti nella discussione e a darle ragione muto perché il gesto di cui ti sta accusando te lo fa percepire come qualcosa di talmente grave che annulla qualsiasi altra sua e eventuale colpa nei tuoi confronti chiusa questa parentesi ragazzi mi vorrei soffermare un attimo su quella che dovrebbe essere la narrazione corretta di questo episodio della testata visto che è stata Amber a cominciare a picchiare Johnny a cominciare la violenza fisica è stata lei a causare lo scontro delle teste di conseguenza è Amber che ha dato una testata a Johnny se proprio vogliamo mettere i puntini su lei Amber ha dato accidentalmente una testata a Johnny dopo averlo picchiato e mentre cercava di picchiarlo ancora dopo due settimane dalla testata e dal faccioletto fasullo è Natale e siamo tutti più buoni tranne Amber Johnny e Amber si recano sull'isola di Johnny Depp insieme ai figli dell'attore Jack e Lily Rose oltre loro c'erano anche il fidanzato dell'epoca di Lily Rose che non so come si chiami una certa Alice Temperley e il fidanzato di questa Alice ovvero il fotografo Greg Williams ora ragazzi nel resto della casa sull'isola Johnny aveva allestito un'area per dipingere perché uno dei tanti hobby di Johnny è la pittura e non solo quella sugli specchi insomma c'erano un cavalletto di colori a olio è una latta di acquaraggia cioè un solvente che serve a togliere la vernice benissimo a Natale Johnny e Amber sono sul retro di questa casa che discutono insieme a loro non c'è nessun altro sono usciti tutti quanti eccetto due persone dello staff dell'isola che galleggiano a caso vicino a loro in attesa che qualcuno ci clicchi sopra come al solito la discussione parte tranquilla e mano a mano però Amber si va scaldando ci va giù sempre più pesante con Johnny fino a che non so cosa le dica Johnny di tanto snervante sta di fatto che Amber si cala piglia la latta di acquaraggia e gliela tira in faccia col pendolo sul ponte del naso qui la latta di acquaraggia è pesante ragazzi soprattutto se era piena a questo episodio Johnny fa riferimento in una registrazione che abbiamo sentito la volta scorsa quando Amber minacciava Johnny di mostrare in giro le foto dei propri lividi se lui avesse continuato a raccontare ad altre persone che lei lo picchiava mi chiede a te Passa qualche mese e il 22 aprile 2016 Amber fa il compleanno Lei e Johnny organizzano una festa alla Penthouse insieme agli amici di Amber Josh, Rocky, eccetera La festa inizierà alle ore 20 e 30 E durante la giornata Johnny ha del lavoro da sbrigare In particolare ha una riunione con un gruppo di contabili nuovi che ha assunto Perché purtroppo il suo precedente business manager in qualche modo lo aveva fregato Non so perché, non so se gli avesse fatto dei giochetti per sottrarti del denaro O se gli abbia fatto male i conti facendolo indebitare O facendogli uscire più soldi del necessario Sta di fatto ragazzi che Johnny ha dovuto licenziarlo E assumere un business manager nuovo e un team di contabili nuovo Ecco il pomeriggio del 22 aprile durante questa riunione di lavoro Il suo nuovo business manager ovvero Edward White Insieme al suo team di contabili gli fa i conti in tasca Gli controlla la situazione finanziaria Perché essendo Johnny ricco non sa manco quanti soldi ci siano di preciso sul suo conto Non sa da dove arrivino, quanti ne debba uscire esattamente Per esempio per le tasse, per le varie cose da pagare L'unica cosa che Johnny sa è che lui lavora Quindi tecnicamente il conto si riempie Insomma ragazzi sti contabili contano Ebbene il risultato è scioccante È sparita dal conto una grossa somma di denaro E la frase che pronuncio ogni mese con aria complottista Essendo la situazione molto grave e anche molto losca La riunione si protrae più a lungo del previsto Così Johnny scrive ad Amber che purtroppo tarderà ad arrivare alla festa Perché è successa questa tragedia finanziaria E si scusa con lei inviandole tantissimi messaggi Finito l'incontro Johnny subito va alla Sweet House Per prendere il regalo di Amber E durante il tragitto riceve un messaggio È Amber che gli chiede la cortesia di prendere del vino Prendere un po' d'erba e portarli alla festa Così Johnny fa qualche sosta Piglia il vino Raccoglie un po' d'erba dal prato dei vicini E infine si reca alla penthouse Accompagnato dal bodyguard Sean Bet Arrivando alla festa con circa un'ora e 40 minuti di ritardo Che è tipo il mio ritardo standard comunque E se sull'isola fare aspettare Johnny un'ora e mezza Prima di dargli le medicine per Amber Era una cosa da niente Quando è lei a dover aspettare Johnny per festeggiare il compleanno Un'ora e mezza rappresenta l'apocalisse Amber lo saluta molto freddamente Dopodiché va a chiacchierare con i suoi amici E ogni tanto si distacca da loro E si avvicina a Johnny per dirgli Non ci posso credere Non ci posso credere che tu mi abbia fatto questo il giorno del mio compleanno E poi se ne va di nuovo a chiacchierare allegramente con gli amici Johnny durante la festa cerca di essere piacevole Chiacchiera con tutti Beve un paio di bicchieri di vino anche lui E finita la festa Quando se ne vanno tutti gli ospiti Amber finalmente è libera di sviscerare tutto l'odio accumulato contro Johnny E comincia a insultarlo con il suo solito flusso di parole irrefrenabili Johnny la guarda e ha tipo un'epifania Si rende conto di quanto Amber sia immatura A serbargli così tanto rancore Quando c'è qualcosa di molto grave in ballo Di molto più importante di una festa di compleanno Il motivo per cui lui ha tardato alla festa è che è nella merda E ancora oggi Johnny non si capacita di come abbia fatto Amber a comportarsi in questo modo Cioè lui in tribunale dice ma come fa una persona che ti ama A mettersi a fare le battutine A prenderti in giro A fare la sarcastica Cercando di farti reagire Di stigarti a reagire Sapendo che ti è appena successa una cosa gravissima Comunque Johnny ragazzi Quella sera frustrato Si va a stendere a letto Ignora Amber E si mette a leggere Amber va a struccarsi Entra poi anche lei in camera da letto Si sdraia a letto accanto a Johnny E comincia a snocciolare tutto quello che lui le ha fatto di male durante la giornata Gli dice che è una persona orribile Inaffidabile Eccetera eccetera E Johnny la ignora O quantomeno ci prova Continuando a leggere il suo benedetto libro Amber non sopportando tutta questa indifferenza Scende dal letto Fa il giro Andando diciamo Nel lato del letto di Johnny E con le braccia Inizia a colpirlo selvaggiamente così Lo colpisce in faccia Sulla testa Sul collo Proprio a caso Dove le capita Quindi Johnny si alza La ferra per le spalle La mette a sedere sul letto E le dice Amber Ascolta io me ne vado Per cortesia Non mi devi seguire E non devi provare a fermarmi Ma Amber si alza subito E corre verso la porta Sta bloccando il passaggio Johnny Molto rassegnato Le dice Che cosa vuoi da me? Vuoi colpirmi ancora? Fallo Colpiscimi Amber lo prende in parola E gli sferra un pugno sulla mascella Al che Johnny Le chiede A posto? Va bene così È questo quello che volevi? Vuoi darmene anche un altro? E Amber gliene dà un altro Cioè Ne approfitta A questo punto Johnny le dice Bene Adesso hai finito La prende per le spalle La accompagna sul letto La fa sedere di nuovo E le dice Non mi seguire Lasciami in pace Perché io ho chiuso Così ragazzi Johnny alle 4.30 del mattino Del 22 aprile Se ne va Esce dalla penthouse E accompagnato da Sean Bet Se ne va alla sweet house La sua relazione Con Amber Heard È appena Finita Il giorno seguente Amber parte per il Quacella Insieme agli amici Dove trascorrerà tutto il fine settimana Il Quacella è un festival musicale Che si svolge in un grande campo Dura circa 2-3 giorni E là Influencer Attori Personaggi pubblici Vanno a fare campeggio Campeggiano in questo campo E si vestono bene Non lo so Si parla molto del Quacella Ogni anno Perché le star Indossano outfit Molto eccentrici Che Dettano la moda Diciamo che nel tempo È diventato anche Una specie di evento di moda Oppure magari È il mio algoritmo Che ha deciso così Johnny si accorge Dai social Che nonostante la rottura Amber al Quacella Ci sia andata comunque Infatti Amber posta Una foto su Instagram In cui sta andando Al Quacella E così Johnny dice a Sean Visto che Amber Mancherà Dalla penthouse Per tutto il fine settimana Mi sembra un buon momento Per andarci Andare nell'appartamento E prendere tutte le mie cose Così prendo i miei libri Di Thompson Insomma Prendo le cose Magari quelle a cui Tengo di più E Amber Manco la vedo più Cioè Mi risparmio Questo strazio Tuttavia ragazzi Sean risponde In modo strano Dice a Johnny Che Non gli sembra Una buona idea E che In realtà Non è un buon momento Per andare alla penthouse Johnny insiste E gli dice Sean Ma sì che è un buon momento Amber è al Quacella Ci sono andati pure Tutti i suoi amici Cioè quando mi ricapita Di poter entrare A casa mia Senza imbattermi In nessuno Di questa comitiva Mai più Probabilmente Allora Sean ragazzi È costretto A dire a Johnny Che cosa stia succedendo Gli mostra Una foto Sul telefono Che gli ha inviato Kevin Murphy Il direttore Della penthouse È una foto Del letto Di Johnny e Amber Proprio quello In cui La sera prima Lei Lo aveva preso Allignati Nella foto Si vede Che sul lato Del letto Di Johnny C'è C'è una Grossa Significativa Cacca Materia fecale Umana Dice Johnny Più educatamente Alla vista Di questa foto La prima reazione Di Johnny È ridere Ma tipo Una risata Isterica Perché non si può Reagire in nessun Altro modo Di fronte A una cosa Del genere Johnny quel giorno Non va alla penthouse E invece Chiama Kevin Murphy Il quale Gli racconta Di avere già parlato Con Amber E che questa Avesse ammesso Di essere stata Lei A farla sul letto Nello specifico Kevin Murphy Dice a Johnny Di aver Rimproverato Amber E che questa Gli avesse risposto Eh ma è stato Solo uno scherzo Innocuo Mi sto spaccando Alle risate Prank Di alto livello A parte che La governante Che ha dovuto Ripulire Pare non essere D'accordo Con questa affermazione Quindi ragazzi Facciamo un recap Johnny Ha appena scoperto Che sul proprio conto È sparita Un'enorme Somma di denaro È al verde Il business manager Di cui si fidava L'ha truffato Amber l'ha menato I due si sono lasciati Diciamo pure Che era già Fin troppo Nella merda Senza il contributo Di Amber Come se tutto ciò Non fosse già Abbastanza Da sopportare Per una sola persona La mamma di Johnny Betty Sue Viene ricoverata Ormai incapace Di parlare E in fin di vita Addirittura forse Era stata ricoverata Prima che Amber Gli defecasse Sul letto Ragazzi Giusto per la cronaca Quindi in questo caso Amber Avrebbe proprio Sparato merda Sulla croce rossa Ma non mi stupirei Nemmeno Ragazzi Dopo che ha menato Johnny Per aver tardato Al suo compleanno Dopo che questi Poraccio Stava già Vivendo il dramma Che aveva perso Tantissimi soldi Senza manco E' un po' Come se Amber Non sopportasse Il fatto Che Johnny Soffrisse Per qualcosa Che non fosse lei Quindi non appena Lo vedeva distratto Da altri problemi Gli faceva i dispetti Per attirare la sua Attenzione E fare sì Che tornasse a essere Lei il centro Del suo universo Per un lungo mese Johnny e Amber Non si vedono E manco si sentono L'unico contatto Johnny ce l'ha Con il papà di Amber L'11 maggio 2016 Quando gli scrive Questo messaggio Non ci parliamo Da quando me ne sono andato Alle 4 e mezza Del mattino Del 22 Il suo compleanno La discussione Ancora una volta Le hanno scatenato Quella rabbia Incontrollabile E ha iniziato A lanciare insulti Pesanti di nuovo Non posso Permettere a nessuno Di credere Che vada bene Insultarmi Mancarmi di rispetto E sentirsi in diritto Di essere Violenta Nei miei confronti In una situazione Che sta già Sfuggendo di mano E andando Fuori controllo La relazione Ragazzi Sembra ormai Definitivamente Naufragata Il 20 maggio 2016 Betty Sue Viene a mancare E' un momento Difficile Ma catartico Per Johnny Perché è il momento In cui decide Di perdonare la madre Per tutto quello Che gli ha fatto passare E di pensare Che in fondo Da lei Qualcosa di importante L'ha imparato Come Non essere Lo stesso giorno Johnny chiama Amber Che comunque al momento Risulta essere Pur sempre Sua moglie E la informa Della scomparsa Di Betty Sue E già che c'è Le dice Di aver preso Una decisione Chiederà il divorzio Johnny promette Ad Amber Che il loro Sarà un divorzio Discreto Che non citerà Le violenze subite E che non citerà Neanche Differenze Inconsiliabili Si limiterà A dire Che entrambi Vogliono Semplicemente Sciogliere Il matrimonio In modo da non dare Modo ai media Di parlarne troppo In modo da non dare Amber Impasto ai media Johnny infatti È un attore Molto popolare E giustamente La notizia del divorzio Avrebbe puntato Molte luci Su Amber E considerati I tanti disgustosi Retroscena Della loro relazione Era meglio Per Amber Che i giornali Non indagassero Troppo Su di loro Amber Risponde a Johnny Che vuole parlarne Di persona E così Lui dice Che la raggiungerà Alla penthouse Prima di partire In tour Con gli Hollywood Vampires Con i quali Se ne andrà In Europa Così con la scusa Avrebbe preso La propria roba Che non aveva Più potuto Prendere A causa Del Del discorso Della cacca Sul letto Johnny è tranquillo Perché la situazione Sembra essersi chiusa Ma Johnny e Amber Ormai si sono lasciati Non c'è più niente Da discutere Lui e Amber Non si sono sentiti Per un mese Quindi insomma Per lui È improbabile Che si potesse Di nuovo litigare Non c'è più niente Tra loro Per cui litigare Quanto meno Non in modo così Violento È finita Punto e basta Johnny allora Si mette in macchina Con Jerry Judge E Sean Beth Le sue fidate Guardie del corpo E insieme Vanno alla penthouse Durante il tragitto Raccomanda loro Di restare Dietro la porta Dell'appartamento Perché con Amber Non si sa mai E li avvisa Di entrare subito Nel caso In cui Avessero sentito Delle urla Questo ragazzi Chiaramente significa Che se avessero Sentito delle urla Non sarebbe stato Perché lui stava Picchiando Amber Mi pare logico Altrimenti non lo chiedeva Alla sicurezza Di rimanere allerta Perché temeva Che potesse succedere Qualcosa che non Dipendesse da lui Comunque arrivano Jerry, Sean e Johnny Salgono nell'appartamento 3 Come testimoniato Dal filmato Della videosorveglianza Le guardie del corpo Restano davanti La porta E Johnny Entra Entrando nell'appartamento Alla tua sinistra Vedi la cucina Mentre in fondo C'è il soggiorno Amber è seduta Nel soggiorno Su un divano Me la immagino Mentre alliscia un gatto Johnny va E si siede Accanto a lei E i due Si mettono A parlare Amber in particolare Inizia subito A giustificarsi Perché è andata Al cuacella Perché per Amber Il problema è che Si è andata Al cuacella Vabbè classico Ragazzi Indirizzare l'attenzione Verso La colpa minore Così da far pensare All'altro Che il problema Sia più risolvibile Così da distrarlo Da problemi Molto più grossi Johnny non si fa Incantare E solleva Il vero argomento Interessante Cioè la questione Cacca E chiede ad Amber Per quale assurda ragione La mattina dopo la lite Ci fosse uno strozzo Sul letto Sul proprio lato Tra l'altro Qualche ragazzi Amber Dice a Johnny È stato il cane È stato il cane Ora ragazzi Questi sono i cani Sarà grande Sarà grande più o meno Quanto la cuccia Di questi cani Quindi a conti fatti È alquanto improbabile Che siano stati loro A combinare Questa marachella Se fosse così Avremmo un referto Veterinario Perché di sicuro Amber si sarebbe Preoccupata di farli visitare Invece di andare Al cuacella Se avessero mollato Una cosa del genere Tralasciando il fatto Che sto cane Chi dei due Avrebbe avuto Un tempismo perfetto Cioè giusto giusto Sto cane L'avrebbe fatta Subito dopo Una grande lite E poi guarda caso L'avrebbe fatta Proprio sul lato Del letto di Johnny Cioè che cane Vendicativo Dategli un posto Di lavoro Perché è un peccato Non sfruttare Tutta questa intelligenza A parte ciò Johnny ragazzi Ha vissuto Con questi cani Abbastanza a lungo Da saperla riconoscere La loro cacca Cioè Ha senso Perché io la cacchetta Di Carlo La distinguerei Da quella di un altro cane Figuriamoci Da quella di una persona Nonostante tutte queste Incoerenze È come se Amber Sia offesa Per l'insinuazione Di Johnny Capito E pretende pure Le sue scuse Ma Johnny Questa volta Non ha nessuna intenzione Di scusarsi Cioè ormai Il prosciutto dagli occhi Gli è caduto Ragazzi Perché Amber L'ha fatta Troppo Troppo fuori dal vado E non mi stancherò Mai di fare Questa battuta Quindi cosa fa Johnny Chiama Kevin Murphy Il direttore Della penthouse Che ha scattato La foto Mette il video a voce E gli chiede È vero che Amber Ti ha detto Che la materia fecale Sul letto Fosse sua In altre parole Ragazzi È vero che Sul letto Mi ha cagato Amber E Kevin dice Sì sì Me lo ha detto lei Me lo ha confermato Amber E quando mi sono lamentato Mi ha detto che Fosse uno scherzo Innocuo A questo punto Amber si mette a urlare Contro Kevin Dicendogli Sei un fotobugiardo Sei una merda E io di merda Me ne intendo E diventa così aggressiva Che Kevin Butta giù il telefono A questo punto Johnny Non ha altro da dire Quindi sale al piano Di sopra Va a farsi la valigia Con le proprie cose E poi torna giù Quando scende Trova Amber Che parla al telefono Con Ayo Tyler Wright Ridendo Su quanto Fosse esilarante Che qualcuno Avesse Defecato Sul letto Di Johnny Johnny ragazzi Qua mi ha fatto Troppa pena Si è messo a dire Io Io non penso Di meritare Questo trattamento Praticamente Non solo Cornuto Pure bastonato E bastonato Non solo da Amber Ma pure dagli amici suoi Ma che bullismo è Non solo mi caghi sul letto Ma mi umili pure Ridendo col tuo gruppetto Di amici Di questa cosa Ma dove siamo a scuola Johnny ragazzi A questo punto Si avvicina Ad Amber Le chiede di dargli Di dargli il telefono Perché deve dire Una cosa Ad Ayo Amber gli da il telefono E dice Al telefono Ayo Senti Amber è tua Puoi averla Io con lei Tanto ho chiuso Dopodiché Lancia il telefono Sul divano Nel lato opposto Del divano Rispetto a quello In cui è seduta Amber E si allontana Se ne va Arrivando in cucina A circa 6 metri Di distanza Da Amber Improvvisamente Rocky Pennington Entra correndo E urlando Lasciala in pace Johnny Lasciala in pace E subito Amber Che è ancora Al telefono Con Ayo Si mette a urlare Con una voce Acuta E sconvolta Smettila di Ficchiarmi Johnny Johnny è disorientato Non capisce Cosa stia succedendo Non ha il tempo Di elaborare C'è tipo Buffering Immediatamente Irrompono Nell'appartamento Jerry Judge E Sean Bette Che come promesso Hanno sentito urlare Quindi appunto Sono entrati Ricordiamo ragazzi Che secondo la testimonianza Di Sean Bette Rocky Doveva per forza Essere già dentro L'appartamento Nascosta da qualche parte Perché lui Era con Jerry Di guardia Fuori dalla porta E nessuno È entrato Dalla porta Nessuno È passato Dal corridoio Comunque Quando Amber Vede entrare Le guardie Del corpo Di Johnny È sorpresa Dalla cosa C'è un imprevisto Che non aveva Messo nel conto E quindi Da che parlava Al tempo presente Dicendo Smettila di Picchiarmi A che passa A parlare Al tempo passato Cioè Si rivolge A Johnny Che appunto È lontano Sei metri Da lei E gli dice Questa è l'ultima Volta che mi picchi Johnny Bizzarro A questo punto Jerry Judge Intuisce Che c'è qualcosa Di malvagio Nell'aria Quindi si avvicina A Johnny E gli dice Dobbiamo andarcene Anche subito Così lui e Sean Scortano Johnny Fuori dalla penthouse E in questo filmato Li vediamo Andarsene via Allora Io ho una teoria Secondo me Amber aveva piazzato Un registratore Da qualche parte Cioè In qualche modo Lei stava registrando Le voci Per questo urlava Smettila di picchiarmi Johnny Per questo Rocky Chi ha finto Di entrare Urlando Johnny Lasciala in pace E lo stesso Aio Era al telefono Per fare da testimone Perché Tutto ciò Cioè perché Gli amici di Amber Avrebbero contribuito A questa farsa Ci arriviamo Tra un attimo Ragazzi Andiamo per ordine Lasciata la penthouse Johnny si reca Alla sweet house E in seguito Parte per New York Perché deve fare Un tour In Europa Con la propria band Cioè partirà Da New York Dove Allora A New York Fa le prove Con la band Poi se ne va Vabbè Non me ne frega un cazzo Il tour Durerà circa Due tre mesi Solamente due giorni Dopo Tutto questo casino Il 23 maggio 2016 Johnny viene a sapere Che Amber Lo ha battuto Sul tempo Ha chiesto Il divorzio Lei Ciò che Johnny Non sa Perché appunto Non si trova A Los Angeles È che Amber Gli abbia inviato Questa lettera Legale In cui c'è scritto Che entro Il 27 maggio Deve accettare E firmare La richiesta Di mantenimento Allegata Perché Amber Ha delle prove Fotografiche Che lui L'abbia picchiata Il 21 maggio Nonché In altre occasioni Durante la loro relazione Nella lettera C'è scritto Che se Johnny Non firma Questa richiesta Lei lo denuncerà Per violenza Domestica In cambio Del silenzio Dunque Johnny Deve darle 43.700 dollari Di mantenimento Al mese 125.000 dollari Come rimborso Delle spese Illegali La Range Rover Nera Pagandole Anche tutte Le spese Ad essa Associate E attenzione Ragazzi Tre appartamenti Su cinque Della penthouse Ovvero Il numero uno In cui guarda caso Alloggiano Gratis Rocky Pennington E Josh Drew Il numero tre In cui guarda caso Alloggiava Amber Con Johnny E il numero cinque E il numero cinque Che è vuoto Però c'è da dire Che Whitney Alloggiasse nel numero quattro Che è grande la metà Rispetto al numero cinque Quindi non escludo Che lei volesse fare Un upgrade Ovviamente ragazzi Anche tutte le spese Associate A questi appartamenti Compreso Il mutuo Dovranno essere A carico Di Johnny Depp E qui ragazzi Ci sta la chiave Ci sta la risposta Alla domanda Come è possibile Che Rocky E compagni Abbiano contribuito Alla sceneggiata Del 21 maggio E' chiaro Che nel momento In cui Amber e Johnny Avessero divorziato Gli amici di Johnny Non sarebbero più Potuti rimanere A parassitare La penthouse A spese di Johnny Depp Perché a lui Non gliene sarebbe più Fregato niente Di campare Gli amici di Amber Giusto Quindi avrebbero dovuto Sloggiare L'appartamento 3 E l'appartamento 4 Per questo Vi dicevo Secondo me C'era un registratore Acceso Solo che Probabilmente Questo registratore E' riuscito A riprendere Solo il disagio Perché altrimenti Sono certa Che avremmo sentito L'audio In tribunale Io ragazzi Ci metto la mano Sul fuoco Da qualche parte Nel mondo Dentro i dispositivi Di Amber Esiste O è esistito Un audio Del 21 maggio 2016 Che purtroppo Non sentiremo Mai Quello che più Mi turba Comunque Che questa lettera Sia Una lettera Legale Cioè Proprio la parola Legale Che mi sconcerta Perché è un'estorsione Questa Se tu devi denunciare Qualcuno Per un reato Penale Qualunque Esso sia Non dovresti poter Usare le prove Come merce di scambio Per ottenere Dei favori Così grossi Perché diventa Un ricatto Ma poi cos'è Cioè Se ottieni La range rover Le case I soldi Il reato Che Johnny Ha commesso Si cancella Automaticamente Ma come funziona Cioè Non è una Un reato civile Si tratta di un reato penale Lui può tranquillamente Restare in giro Senza pagare Per i propri errori Col rischio Che vada a pestare Un'altra donna È uno scandalo Insomma ragazzi Ovviamente Johnny Non firma Anche perché Non c'è Cioè Lui se la sta suonando In Europa E così Amber Non può più Tirarsi indietro Perché ormai La lettera legale L'ha mandata E c'è scritto Molto chiaramente Che se Johnny Non avesse accettato E non avesse firmato Lei lo avrebbe denunciato C'è dentro Fino al collo Ormai ragazzi Non si può più Tirare indietro Deve andare Fino in fondo Così Il 27 maggio Tra l'altro Il giorno del compleanno Di Lily Rose Tanti auguri Amber si reca In tribunale E scende Dalla macchina Con un livido In faccia E sfila A testa alta In mezzo Ai paparazzi Ha premesso Che Nella lettera legale Amber Chiedeva a Johnny Di firmare L'accordo Di mantenimento Lontano Dall'opinione Pubblica Quindi Quando a fare Brutta figura Sarebbe stata Amber Bisognava stare Lontani Dall'opinione Pubblica Ora che invece Dobbiamo sputtare Johnny Marciamo In mezzo In mezzo In mezzo Ai paparazzi Mettendo Ben In evidenza Il livido Livido Che secondo I testimoni Di Johnny Ragazzi Per esempio Isaac Nel periodo Compreso Tra il 21 maggio E il 27 maggio Non c'è mai Stato Cioè È spuntato Dal nulla La mattina Del 27 maggio E invece Secondo La denuncia Di Amber Questo livido Johnny Gliel'avrebbe fatto Proprio Il 21 maggio Tirandole il telefono In faccia Quando lei Stava parlando Con Aio Vi ricordate Che Johnny Ha detto Che quando ha finito Di parlare Con Aio Ha lanciato Il telefono Sul divano Ecco Secondo Amber Invece Gliel'ho Ha proprio Lanciato Qua In faccia Dopodiché L'avrebbe presa Per i capelli Trascinata Per l'appartamento Presa Schiaffi E tante Altre Brutte cose Il 27 maggio Johnny Sta suonando Con gli Hollywood Vampires Quindi Lui e il suo Avvocato Non possono Presentarsi Davanti Alla corte E Johnny Non può Difendersi Non può Dire la propria Versione Dei fatti E così Amber Ottiene Dal giudice Un ordine Restrittivo Ma è un ordine Restrittivo Temporaneo In attesa Che Johnny Possa tornare Per dire La sua Ma in realtà Johnny Non sa Manco niente Non lo sa Quello che sta Succedendo Lui Semplicemente A un certo punto Il 27 maggio Trova I social media Inondati Di foto Di Amber Con questo Livido In faccia E i giornali Pieni di articoli Che descrivono Lui Johnny Depp Come un alcolizzato Un drogato E soprattutto Un uomo Violento Un fiume Di informazioni False Perché niente Di tutto quello Che denuncia Amber È mai accaduto Secondo lui Il primo pensiero Di Johnny È che i suoi figli Una volta usciti Da scuola Sarebbero stati Assaltati Dai giornalisti Quindi la prima cosa Che fa È chiamarli E allertarli Spiegando loro A grandi linee Cosa stesse succedendo Johnny si sente Tradito Cioè Amber Gli ha fatto Una cosa Troppo crudele E non capisce Perché Non capisce Per quale motivo Si stia fingendo Lei la vittima Di violenza domestica Che cosa vuole Gli vuole rovinare La vita Vuole ferirlo Qual è il senso Di montare Questa bugia Non se lo spiega Johnny Il 27 maggio 2016 La vita di Johnny Cambia Cambia all'improvviso La gente che lo circonda Inizia a guardarlo Con occhi diversi Lui percepisce Proprio un atteggiamento Diverso Da parte delle persone E il suo telefono Di lavoro Smette di squillare Perché produttori Agenti Non lo chiamano più O comunque Le proposte di lavoro Diminuiscono In modo Spaventoso Già che era al verde Perché ci aveva un buco Nel conto Ci mancava solo questa A questo punto Ragazzi Johnny Scrive Alla mamma di Amber Questo messaggio Anche questo Non è stato letto In tribunale Ma noi ce l'abbiamo Non capirò mai Come siamo arrivati A questo punto Il mio amore Per tua figlia È stato costante E impenetrabile Ma stiamo divorziando Ora Perché ero in ritardo Di due ore Alla cena Del suo compleanno Perché ero in riunione Con il nuovo business manager E i membri Della banca Dato che il mio ex Business manager Mi ha fottuto Per bene Inoltre Sapeva che avrei fatto tardi Le ho mandato Un messaggio Dalla riunione Mi ha trattato Come un cretino Davanti a tutti I suoi amici E la situazione È solo peggiorata Quando tutti Sono tornati a casa Lei è diventata Violenta E io me ne sono andato Come faccio sempre Quando decide Di diventare Violenta con me Le sue accuse Nei miei confronti Non sono assolutamente vere Non le ho lanciato Il telefono addosso Le ho voltato Le spalle Per allontanarmi E ho lanciato Il telefono Dietro le spalle Sapendo che Non l'avrei colpita E che sarebbe Atterrato sul divano E poi naturalmente È arrivata Rocky in soccorso Come se fosse Una schifosa Bestia psicopatica Nel momento Più brutto Per me Mia madre È appena Venuta a mancare Amber L'amore della mia vita Non può più esistere Per me Giurare Spergirare Il falso Contro di me È troppo Non mi merito Questo Page Ma è questo Che sta succedendo Giusto? Questo è quello Che devo affrontare Io non so Cosa sia stato Vero O cosa sia stata Una bugia Però mi manca E naturalmente Stupidamente Io l'amo Ancora con tutto Me stesso Immagino Che non fossi più In grado Di farla sorridere Ed è tutto ciò Che ho sempre Voluto Ti chiamo Tra un po' Se ti va Ti voglio bene Mia cara Page Mi manchi molto La mamma della donna Che ha subito Violenza domestica Ragazzi Come risponde All'uomo Che le ha picchiato Brutalmente La figlia Per anni Così Sono gli avvocati Di entrambe le parti Ad avere fatto questo Non Amber Ho sentito Tutta la storia In lacrime Se solo potessi Parlare con te Johnny Lei non voleva Questo Questi maledetti avvocati Di entrambe le parti Questa non era Una sua idea Nel suo volere Le è stato detto Che sarebbe stata Sfrattata di casa In 30 giorni Se non l'avesse fatto Sì è così Ne sono sicura Il suo stupido avvocato Le ha detto Che sarebbe stato L'unico modo In cui avrebbe avuto Un posto in cui vivere Senza essere sfrattata Fra 30 giorni Certo perché C'era il rischio Effettivo Che Amber Hard Attrice di Hollywood Casomai Non avesse avuto I soldi Per affittarsi Un monolocale Vabbè poteva Sempre andarsene Nell'ostello Insieme a Isramil Comunque questi messaggi Ragazzi in sostanza Confermano Che secondo La mamma di Amber Lei abbia mentito Per tenersi la casa Gliel'hanno detto I suoi avvocati E C'è Sti cazzo Nel senso Amber è una persona adulta Poteva Benissimo dire No Non me la sento Di mandare In galera Una persona Accusare una persona Di violenza domestica E rovinargli la vita Soprattutto se ci lavora Con la sua immagine Solo per tenermi Una casa E infatti ragazzi Johnny Risponde A Paige Se non voleva presentare Un'ordinanza restrittiva Contro di me E lanciare un messaggio Al mondo Ovvero che sono Un marito violento Allora perché È andata in tribunale Con una sua foto In cui sembra Che sia stata Picchiata Domanda illecita Questa è anche la mia vita Cosa dovrebbero pensare I miei figli E gli amici Dei miei figli Non merito questo E neanche loro Se lo meritano Soprattutto Non da lei Risposta Della mamma Di Amber A Johnny Il suo avvocato Le ha detto Che doveva farlo E doveva farlo Oggi Alidaia Ecco perché Voleva parlare con te Non abbiamo parlato Del fatto che ti scrivo Quindi per favore Non sollevare mai Questo argomento Ma ti giuro Che questa Non era una sua idea Ne è stata una cosa Che ha fatto volentieri O felicemente Le è stato detto Che era la sua unica opzione Per non essere sbattuta Fuori di casa A calci Ma che vuol Non vuol dire Assolutamente nulla Ma non ce l'hai Un'etica Una morale Cioè ma tu Per non essere sbattuta Fuori di casa Accusi una persona Di violenza domestica Ma Ti sembra Una giustificazione Non sto cercando Scusa Ma è quello Che credeva Non voleva farlo Sentiva di tradire Il suo unico amore Mamma Venditi luppini Ma è quello Che le hanno detto Gli avvocati Per favore Non dirle Che abbiamo parlato Se dovessi sentire Amber di nuovo Ti amo come un figlio Quale madre Quale madre Non scriverebbe all'uomo Che ha rotto il naso Alla figlia E l'ha quasi ammazzata Di botte In numerose occasioni Ti amo come un figlio Parallelamente A questa conversazione Si affianca Quella tra Johnny E il papà Di Amber Infatti Johnny Gli scrive Come stai Che medicine Ti stanno dando Non riesco a credere A cosa stia succedendo Amber la chiama Violenza domestica Ha messo in giro Una foto Che dice Che le ho lanciato Addosso il telefono Si mette nei guai Seriamente Se continua A spergirare Il falso In questo modo Non ho fatto nulla Per meritarmi questo È una cosa Fottutamente malata Non sono mai stato accusato Né arrestato Per violenza domestica Lei sì Per due volte E tutto questo Mi fa vomitare L'ho adorata E sono stato tradito Dall'amore della mia vita Fanculo Lei ha rovinato tutto Devo essere stato Così terribile Che andava bene Per lei lasciarmi E andare al coacella Per quattro Fottuti giorni Con tutte le sue amiche E non festeggiare Il compleanno Io e lei Il festival E le sue amiche Erano chiaramente Più importanti Che sistemare le cose Con me Con queste bugie Che sta vomitando Per salvarsi il culo Con la stampa La verità Verrà fuori sempre E la verità Sarà una stronza E non ho detto Una sola parola Finora Ho due testimoni Che erano Nella stanza Quando ha detto Che ho lanciato Il telefono Bugia del caccio In assoluto Vuole il divorzio Lo avrà Ma il mondo Saprà la verità E se continuerà A spergiurare il falso Cosa che farà L'Australia Potrebbe riaprire Il caso Contro di lei Per indagare Se o meno Ha presentato Un ordine restrittivo Contro di me Crudele E imperdonabile Non ho fatto Altro che amarla Comunque Questo era quanto Fratello Spero che lei Sia felice ora Allora Un attimo Johnny ha tirato In ballo L'Australia Perché Perché praticamente Amber e Johnny Nel 2015 Quando sono tornati In Australia Dopo l'operazione Al dito Perché Johnny Doveva finire Le riprese Di Pirati Dei Caraibi Hanno portato I cani Di nascosto E cioè Falsificando Dei documenti Perché in Australia Non puoi fare Entrare E uscire Animali Così Cioè I cani Per esempio Si devono fare Dieci giorni Di quarantena Per evitare Di danneggiare La preziosa fauna Australiana Soprattutto se si tratta Di cani Che fanno stronzi Grossi così In questo continente Sono molto rigidi In generale Su quanto può Entrare Nel territorio Tanto che Ragazzi Anni fa Non so se lo sapete Ma addirittura Facevano una trasmissione Su D-Max Mi pare In cui Facevano vedere Tutti i passeggeri Che venivano fermati Alla dogana australiana Spesso per piccolezze Si chiamava Airport Security Può essere Insomma Amber e Johnny Per portarsi Sti cani Senza fargli fare Dieci giorni Di quarantena Hanno appunto Falsificato Dei documenti E sono stati Beccati entrambi Però solo lei È stata accusata Di importazione Illegale Di animali Alla fine Amber Si è dichiarata Colpevole E sia lei Che Johnny Hanno registrato E reso pubblico Un video di scuse Per il governo Australiano E il caso Si è chiuso così Però ragazzi Secondo Johnny Se lei venisse accusata Di dichiarare Il falso Per questo caso Il governo Australiano Potrebbe riaprire Il suo E lo sapete Perché? Perché Johnny Aveva spiegato E straspiegato Ad Amber Che i documenti Non li potevano Falsificare Non potevano Portarli i cani Ma lei Lo aveva Praticamente costretto Cioè lui A un certo punto Non aveva potuto Fare altro Che passare Dalla dogana Con lei E i suoi cani E ovviamente Questa cosa In tribunale Avrebbe dovuto Raccontarla Quando lo avrebbero Interrogato Su ciò Non lo so Ragazzi Potrebbe riaprirsi Questo caso Chiuso Dell'Australia È vero Bo Tra l'altro Uno dei cani Di Amber Si chiama Bo Comunque ragazzi In tutto ciò Il papà di Amber David Così come la mamma Risponde a Johnny L'avvocato Le ha detto Che doveva fare così O non avrebbe avuto Un posto dove vivere Nel giro di 30 giorni Allora va bene Roviniamo la vita Alle persone Perché Vogliamo la casa bella Ma puoi chiedere A Johnny No Tipo dirgli Mi fai la cortesia Di regalarmi una casa Lasciarmene una In cui vivere Io non penso Che Johnny Le avrebbe risposto Di no E infatti Sentite cosa risponde All'ex suocero Questa è una c***a Enorme Il suo avvocato Ha chiesto due settimane Per poter stare Nell'appartamento A downtown Cioè la penthouse Io ho detto No Lei può stare Quanto vuole Per quale motivo Dovrei forzarla Ad andarsene Tra due settimane Non sono così Una merda Amico Indosso ancora La mia fottuta Fede nuziale Non me la sono tolta Perché la amo Me la sto toliendo Proprio ora Che fottuta Coltellata Alla schiena Sono così Deluso E così Ferito E semplicemente Troppo A dopo Fratello Riprenditi Comunque tutti questi Messaggi in questo Processo E' vero che non Sono stati letti Ma il processo Contro il The Sun Si Quindi Cioè nel senso Una minima valenza Ce l'hanno Comunque Johnny Alla fine si decide A chiamare Amber E parlare direttamente Con lei E di questa conversazione Ragazzi abbiamo La registrazione Ed è la registrazione Che forse più di ogni Altra vi farà Indignare Io ho la sua memoria Ormai in questa Conversazione Però comunque Ragazzi Cioè Ogni volta che la risento E' come la prima Mi sale Proprio Mi salgono i crimini Di Ezra Miller In questa conversazione Infatti Johnny Dice ad Amber Di ritirare le false Accusi che ha fatto Ma Amber Si rifiuta E gli dice Che tanto nessuno Crederebbe mai Che lei Abbia complottato Tutto Raccogliendo prove Per tre anni Facendo fotografie Allividi Che lei avrebbe fatto Con il trucco Messaggiando Con vari interlocutori Ai quali raccontava Degli abusi subiti Mentre parallelamente Svolgeva la sua normale vita I witnessed statements It would be Evidence Tons of it And it would be Through years And it would be Unbelievable Unbelievable Um To Imagine That either I'm in A Secret fake club Or B I've had Um So that I have been Plotting to do this For the You know For three years Johnny ragazzi Di fronte a questo Lungo Contorto Discorso di Amber Sembra Un po' confuso E le dice Che comunque Questa cosa Bisogna fermarla Perché è una cosa Folle Ma lei Gli dice Che non può Perché non saprebbe Come recuperare La sua reputazione A un certo punto Ragazzi Amber Dice a Johnny Mi dispiace Johnny E che l'ultima volta Che le cose Tra noi Sono diventate Folli Ho pensato Che per sbaglio Avresti potuto Ammazzarmi E Johnny Le risponde Amber Ma per cortesia Ma se Gli ho perso Un dito Mi sono preso Una lattina Di acquaraggia Sul naso E mentre La sta Accusando Delle cose Che lei Ha fatto A lui Amber Si altera Gli parla Sopra E gli dice Vai Johnny Dillo al mondo Dillo Io Johnny Depp Un uomo Sono vittima Anche io Di violenza Domestica E vedrai Quante persone Ti crederanno E si schiereranno Dalla tua parte E Johnny Le risponde Sì Lo sono Vi faccio sentire Questa parte Della registrazione Che fa Accapponare La pelle Ragazzi I I said, oh my god, I thought it was the first time. Amber, I lost a finger, man, come on. I had a, I had a mineral, a can of mineral spirits thrown at my nose. I mean, you can please tell people that it was a fair fight and see what the jury and judge think. Tell them, well, Johnny, tell them, Johnny Depp, I'm Johnny Depp, man, I'm a victim, too, Jurassic Park. Yes. You know, it's a fair fight. It's the use of how these people believe or side with you. It doesn't matter if it's a fair fight. It's a legit, you know. Exactly. Because you're a bit, you're bigger and you're stronger. And so when I say that I saw that you could kill me, that doesn't mean you count her with you also, that you lost your own finger. I, I am not trying to attack you here. I'm just trying to point out the fact of why I said call 911. Because I was, you're, you had your hands on me after you drew my phone and my face. And I just got crazy in the past and I truly thought I need to stop this madness before I get hurt. Oh my God. Amber, quindi, cerca di scoraggiare Johnny dal parlare, dal dire la verità, la sua verità, facendo leva sul pregiudizio in base al quale un uomo non possa essere picchiato da una donna. Perché? Perché la donna è fisicamente più debole dell'uomo, sono gli uomini quelli che in genere picchiano le donne. E infatti, ragazzi, più avanti Amber gli dice che anche se lei lo picchiava, anche se era lei a cominciare la violenza fisica, comunque i loro non sono mai stati scontri alla pari. Lei pesa molto meno di lui e dice a Johnny cosa dirai alla sbarra? Ma ti alzerai e direi, ha iniziato lei? Do you believe all this Amber? Do you believe all this? Oh yeah, the fuck, yes, yes! Do you believe, you believe I'm an abuser? Do you believe I'm an abuser? Do you believe I'm an abuser? Do you believe me in May, in December, in April? Do you believe you're an abuser? Do you believe you abused me physically? Do I physically believe, I mean, do you believe I physically abused you? Yes. Do you know I'm 115, well not anymore, but I was 115 pounds. I'm a 115 pound woman and you're, it says, I have to surpass me, you know, do you speak? That's not the question, that's not the question. Have I ever been able, have I ever been able to knock you off of your feet? You started, you started these things. You're going to get up on the stand, Johnny, and say she started it, really? I have never been able to overpower you, that's the difference between me and you. Why did you try? Quindi lei, ragazzi, insiste sul fatto che o gli abusi fossero reciproci, oppure Johnny, invece di farseli dare e basta, reagisse facendole magari più male o rischiando di farle più male di quanto lei non ne potesse fare a lui. È molto contorto, ma da questa conversazione, ragazzi, risulta che ci sono solo ed esclusivamente due scenari possibili che possono essere veri. Scenario 1, Amber ha denunciato Johnny solo per avere reagito ai propri abusi, come quella volta in cui le ha dato una testata, lei diceva che lui le avesse dato una testata e invece lui la stava solo contenendo e trattenendo dal colpirlo ancora. oppure per altre volte in cui Johnny potrebbe averla spinta via. In base a questo scenario, Amber avrebbe inventato una storia finta in cui lei non aveva alcuna colpa mentre Johnny dal nulla la aggrediva, perché questa è la versione di Amber. Quando invece Johnny in realtà era la vittima di Amber Heard che si difendeva da lei solo per autoconservazione, anche facendole male se necessario o se capitava per sbaglio. Scenario 2, gli abusi erano effettivamente reciproci e quindi anche Johnny ogni tanto, quelle poche volte in cui non scappava in bagno durante una lite, la picchiava. Mettiamo il caso che questo scenario sia reale. In questo caso comunque Amber ne uscirebbe da grande bugiarda e da grande manipolatrice perché non esistono abusi di serie A e di serie B, erano violenti entrambi in base a questo scenario. Eppure comunque lei una mattina si è alzata e ha deciso di fare passare davanti al mondo intero Johnny e solo Johnny per uomo violento e se stessa come vittima di Johnny Depp e nient'altro che vittima. Una vittima che non ha mai reagito, che non ha mai alzato un dito contro di lui, è scelta una volta per difendere la propria sorellina che è grande eroina anche, è soprattutto una vittima che mai per prima ha iniziato la violenza fisica quando in realtà accadeva e anche spesso. Ed è vero che se questo scenario fosse quello giusto anche Johnny ora starebbe mentendo sotto giuramento non raccontando le proprie aggressioni verso Amber per passare come l'unica vittima. Ma in difesa di Johnny, ragazzi, lui in questa situazione ci si è ritrovato. Invece Amber, ripeto, dal nulla si è alzata e ha deciso di rovinare la vita di Johnny Depp costruendo una narrazione inesistente in cui lei era una vittima e lui un carnefice e mai viceversa. Cioè, non so se mi spiego. In ogni caso non esiste e non può esistere, in base alle registrazioni che abbiamo sentito, uno scenario in cui Amber non fosse violenta con Johnny perché lo era e non può esistere uno scenario in cui lei non iniziasse la violenza fisica perché lo faceva e non può esistere uno scenario in cui lei non abusasse di lui fisicamente e psicologicamente perché lei lo faceva. Non esiste e non può esistere uno scenario in cui Amber Heard non abbia inventato una storia ricca di dettagli solo per rovinare Johnny Depp quando lei stessa era nel migliore dei casi uguali a lui, nel peggiore e anche più probabile molto peggiore di lui. Eppure lei ha denunciato Johnny Depp e si è detta vittima sua di fronte a tutto il mondo, ha fatto tutto lei e gli ha chiesto pure soldi. Se lui avesse accettato di darle 50.000 euro al mese, case, auto e una fetta di culo, la reputazione di entrambi sarebbe salva e Amber Heard se la starebbe scialacquando mafiosamente senza che nessuno al mondo sospettasse che Johnny potesse essere violento ma soprattutto senza che nessuno al mondo sapesse che lei, Amber Heard, per anni abbia picchiato e inseguito suo marito Johnny Depp per i bagni di tutta l'America. Pensate che esiste un universo in cui è andata così. E lanciate i pomodori. Anche per quell'universo. Ci tengo a dire che nonostante tutto ciò, la maglietta di oggi è del tutto casuale. Se volete una maglietta come questa o più bella, più nerd di questa, più divertente di questa, più quello che volete di questa, andate su Pampling dove ne trovate tantissime e inserite il codice Babilonia per scegliere anche un paio di calzini gratis belli come questi. Torniamo a noi. Nonostante l'ordine restrittivo passano un paio di mesi e a luglio l'agente di Johnny Amber, Christian Carino, scrive a Johnny un messaggio in cui gli comunica che Amber lo vuole incontrare a San Francisco dove Johnny sta alloggiando perché proprio a San Francisco si sarebbe tenuta una delle ultime tappe del tour degli Hollywood Vampires. Johnny però, ragazzi, non capisce. Cioè, lui ha un ordine restrittivo da rispettare. non può avvicinarsi ad Amber a meno di 100 slash 200 piedi che corrispondono approssimativamente a 50-60 metri. Comunque sono troppi per riuscire a comunicare in modo esaustivo, tanto vale telefonarsi. Ma Christian gli dà istruzione di recarsi in una stanza d'albergo dove avrebbe trovato Amber ad aspettarlo. Quello che Johnny pensa è che Amber voglia dirgli che vuole ritrattare le accuse. quello che avrei pensato io è vuole farmi fuori e vuole farlo sembrare un incidente. Johnny, ingenuo, si reca in questa stanza d'albergo e chiede ad Amber che cosa voglia da lui. Lei fondamentalmente non vuole niente, è lì a caso, e quindi lui non capisce, cioè, perché sono qui? Mi vuole fare arrestare perché sto forando i 100 metri di distanza? Johnny inizia seriamente a sospettare che Amber lo abbia ingannato portandolo a incontrarla con un falso pretesto per poi, non so, chiamare la polizia. Per questo motivo estrae un coltello dalla tasca e glielo offre e le chiede vuoi il mio sangue? Prendilo, perché tutto quello che mi è rimasto, tutto il resto me l'hai tolto. Questo aneddoto Johnny lo racconta per contestualizzare un audio che Natomarcio fa riprodurre durante il controinterrogatorio. Si tratta di una registrazione molto forte e molto pesante, ragazzi, in cui Johnny continua a chiedere insistentemente ad Amber, quasi implorandola, di tagliarlo con un coltello, mentre lei, al contrario, lo implora di smetterla e di non farsi del male e dice che non vuole fargli del male. Johnny sembra distrutto e non riesco veramente a capire come un audio del genere possa essere in mano alla difesa di Amber Heard e non in mano all'accusa, perché, come dice Johnny, è evidente a giudicare da questo audio che intanto che il suo cervello fosse alla frutta e che fosse in pieno mental breakdown, ma anche che lui in quel momento fosse una minaccia solo per sé stesso e non certo piramber. Ve lo faccio sentire. Come in wherever you want. Come in. This is really pretty. Thanks. Come in somewhere. Do I want to cut you? Yeah, you want an arm more chest? You want. We want the scar? Don't cut me. Don't cut your skin. Please do not cut your skin. Please don't. Okay. Why would I do that? It's easy. Don't. Please do not do that. Please do not do that. Please don't. Please don't cut yourself. You don't need to cut yourself. I need to do what I want. I know. I know. I know. I know. Tell me. I know you, Mark. No, you don't. No, thank you. No, thank you. There's sperm on the pillows. You know I will. Don't. Don't. Please don't. Don't. Don't cut yourself. Please don't cut yourself. Please don't cut yourself. Please don't cut yourself. Please don't do it. I would never cut you. I would never do that to you. Go to me. Come on, go to me. You look amazing. Come on. Tell me. Please don't. Please don't. It'll be okay. There's love here. There is love here. There's love. No, 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 no. E a un certo punto cerca di togliergli gli occhiali per guardarlo negli occhi, ma Johnny le dice, dopo tutto quello che mi hai fatto, dopo tutte le stronzate di cui mi hai accusato, tu non vedrai mai più i miei occhi. Allora ho trovato l'audio integrale, praticamente c'è anche una parte della conversazione in cui Johnny le dice espressamente che lui l'ha lasciata perché lei lo ha preso a pugni mentre lui era a letto e lei tipo non è che neghi questa cosa, si mette a piange, dice mi dispiace, sono così triste. Poi in questa conversazione succede di tutto, è lunghissima, c'è Amber che tipo a un certo punto gli dice che sembra che voglia tornare con lui e lui le dice bene, allora blocca il procedimento e non divorziamo, ma lei non vuole saperne di ritirare le accuse e di bloccare tutto, quindi non so, forse vuole che siano insieme di nascosto, non si capisce. Poi praticamente a un certo punto Amber vedendosi persa, non sapendo più bene a che cosa appigliarsi, comincia a tirare in ballo l'alcol e l'idrole e Johnny è come se all'improvviso diciamo avesse una specie di illuminazione perché lei dice no, allora il problema non sono l'idrole, il problema non è l'alcol, il mio problema sei tu, lo sei sempre stata, mi hai sempre chiesto ma perché bevi così tanto? Per colpa tua, io bevevo per colpa tua, cioè finalmente Johnny diciamo si sveglia. E niente ragazzi questa conversazione è lunghissima, vi faccio sentire soltanto qualche estratto. E niente ragazzi questa conversazione. ...to make you happy... ...it wasn't good... ...you don't want to... ...I don't want to... ...I don't want to... ...I don't want to do... ...I just don't want to have my voice... ...I don't want to be able to tell you... ...I thought you'd be clean as silver... ...and it would fix a lot of our problems... ...I'm never getting clean as silver... ...I know... ...you drink from the harder it can get... ...you know... ...the harder it is... ...when you're using drinks... ...like what's today... ...up and down... ...and sideways... ...you really, really, really... ...are naive... ...because... ...but I do love you... ...you still don't make me... ...you still don't make me crazy... ...so you still don't make me crazy... ...you still don't make me crazy... ...but you got so much worse today... ...and the reason that I try so much... ...you go... ...why do you drink so much... ...why do you drink all the time... ...why do you do this... ...why do you do that... ...was because of you... ...yes... ...it's my fault... ...you drink... ...okay... ...I don't want to stand... ...because that's what you want... ...no... ...oh no... ...I hope to say... ...you know... ...I just don't know... ...I just wanted to... ...I just wanted to touch you... ...you just thought to me... ...after all the shit... ...you just did... ...I just wanted to give you a hug... ...I did... ...yes... ...yes... ...please... 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 ...please stop... ...please... ...I just wanted to hug... ...and say bye... ...I just wanted to... ...we did that last night... ...it's fine... ...that was... ... consegue enough... La manda via, tra l'altro dicendole che è un avanzo di spogliare lista e non sarà mai nient'altro nell'industria del cinema Perché a quanto pare Amber prima di fare l'attrice faceva la spogliare lista in uno strip club E a un certo punto Johnny capisce che lei stia registrando Cioè Johnny sotto ordine restrittivo lei registra di nascosto Brava! Comunque Johnny le chiede stai registrando? E lei rassegnata lo ammette, sì Ah ok, in realtà è ancora peggio di così perché Amber in realtà gli risponde Adesso sto registrando, puoi parlare In realtà registrava da 25 minuti però ok Johnny allora si avvicina al telefono di Amber e dice Lo cito testualmente ragazzi Ciao, volevo mandare i miei saluti a David e Paige e dirgli Vi voglio bene e mi dispiace che non abbia funzionato You are a leftover, fucking over the hill stripper And that's all you'll ever be And all you've done I can't clear that You're recording? Yeah I am E con questo ragazzi io amaramente vi lascio Abbiamo ospiti come vedete Non avrei voluto però alla scarsa essere molto convincente Io ragazzi vi lascio a riflettere su quanto schifo faccio alla vita di Johnny Depp Forse anche quella di Amber Erd in generale di chiunque abbia una relazione tossica Da qualunque parte siate nella coppia andate dallo psicologo in questi casi Altrimenti ci manderete gli altri Facile Detto ciò ragazzi per oggi abbiamo finito Oggi voglio sapere non solo cosa ne pensiate di tutta questa faccenda Ma anche come state dopo averla ascoltata Perché immagino che abbiate toccato come me momenti di puro sconforto Scendo subito nei commenti per leggervi Per contare i pomodori che avete tirato Per fare una stima dell'indignazione generale Dopodiché vi metto subito al lavoro per preparare la parte 3 Sul contro interrogatorio con Natomarcio In realtà vi confesso che sono indecisa se farla Cosa c'è amore? La bua? Vuoi un po' di tremanica? Ora ci mettiamo la cremanica va bene? Scusate ragazzi nel trambusto generale avevo dimenticato di accendere il microfono Sono indecisa ragazzi Vale la pena fare un video solo sul contro interrogatorio Perché comunque tante cose già le abbiamo fatte emergere Nel corso della versione di Johnny Quindi non lo so manca un po' la parte sul fatto che Johnny si droghi e beva Perché c'è Natomarcio proprio c'è la mena con sta cosa In ogni caso considerate che sarebbe un finale di stagione Nel senso che voglio fermarmi un po' con questa saga Per rimetterci in pari con i casi del momento che ci stanno sfuggendo di mano Non lo so sarà un po' in divenire la cosa Non ho deciso bene cosa fare come organizzarmi Parliamone un po' qua sotto se vi va Seguitemi anche su Instagram per ulteriori aggiornamenti A questo punto ragazzi io vi ricordo che se volete sostenere il canale Potete farlo offrendomi un caffè digitale virtuale attraverso il link che vi lascio giù nell'info box Vi ringrazio tantissimo per esservi sorbiti di questa saga così drammatica fino a questo punto Ci vediamo prestissimo con un nuovo videogiornale o con la parte 3 sul conto interrogatorio Punto interrogativo E per oggi ragazzi è definitivamente tutto Io vi mando un bacio Vivi be e a voi la linea Ciao 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 Ciao